Fermarra i suoi pareri Amarra, ma fa fa culo Un decerebrato, cerebrato Una persona meschina è un bullo del cazzo Che fa un podcast I ragazzi del podcast Sono criminali, fallo fermar Che peotti, imbecilli, dici di puttana, rovina mondo Faridere, troll, mili di DM, che implora di fare il confronto Sei contro me Perché l'invidia della gente ti colpisce sempre, no? Stiamo a lì 880.50 cazzi di contratto Sto mezzo un punto, quello che volete Lavorato con Chiara Pesano Bisogna ammettere che si può sbagliare Chiara, giù di Chiara Mi sono resa conto di aver commesso un errore di cui farò un tesoro in futuro Mi ha fatto diventare famosa Chiara Mi ha detto questo A me risulta Si possono generare degli equivoci Sei rimasto affascinato forse da delle trecine Vede Vede Il desidero brasilera A me stai cazzo non l'hai chiesto a dir Sei la controfigura di Ornella Panoni La sostanza stupefacente Chiamatasi E poi sei sifonata Devenciato da una donna Pensa a te Ma chi è che non gli è mai passato per la testa a staccare la testa a una ragazza? Spero che qui non è entrato Non è entrato al pacco Quando invece c'era la città Le donne si comportavano bene E' il cuore di un soldato Mandami la storia Visto che ti piace parlare Parli col presidente E' un criminale Dai porca madonna Ti avessi dato Le legnate giuste Ci avrebbe pensato due volte Un miti Mi sono sentito Ostaggio dello Stato Mi sono sentito Ostaggio dell'istrò Voi criticate Una persona che sta facendo qualcosa Mentre voi siete lì Con la poltrona Belli bella Che siccare Non sa fare niente Per questa società Ci dovete andare a vedere Scusate me Perché non avevo fatto Da tre anni Io ho metto Pato a capo Guarda Una volta A tutto quanto Ho metto Pato a capo Avete distrutto Una vita Non è finita Io non mi rendo Non è finita Io non mi rendo mai Ti guardo il tuo corpo Sempre Io non mi rendo mai Io non mi rendo mai Né io E nella famiglia Non c'è un minimo mai 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 Sempre qui in alto Sempre qui in alto Corona non perdona Uniti Perché non ne parlate Voi del cibro podcast reale Perché non ne parlate Eh Perché Perché Basta Parco di aver rotti i coglioni Sì Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione Da vedere In punto di morte Sono a casa Sono a casa in capelli Gli altri escono tutti insieme E con podcast in azione Che presto cambia la mia sate Che C'è C'è Cerferò 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 Ma 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 Mi Zuby vuole estinguersi tre teste per un cerviru Cerbero! Troppi goblin in questo mondo Non sarò un closure Né tanto bene non devi Perché ogni giorno guarda il setembro Pa 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 Che è il muro Na 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 Pa 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 Guardami il setembro Pa 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 da E anche è arrivato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, quindi sto copiando Dario facendo una cosa del genere? Ma faceva pure lui questo contenuto? Allora, o facciamo come lui quando ha copiato tutta la roba che ho fatto io, o ne inventiamo un altro, che cazzo me ne frega. Sì, cazzo! Let's go! Let's go! State vizzitti, fate più bella figura. C'è un motivo se io faccio il pro player e voi no. Quello che stai a fa' ricordate che i ghani stanno arrivià! No, volevo far finta, capito? Stavo facendo come se ero doppiato, no? Ok. Ah, non l'avevo capito. Hello, Closhards, e benvenuti in questa nuova trasmissione! Sono Dave Revan e sono qui sulla sedia di Mr. Mara per condurre il Cerbero Podcast! Vabbè, ci poteva mezzo stare, non era proprio perfetto l'ipsync, non sapevo il testo, eh. Non sapevo assolutamente il testo di quello che era detto, quindi ho improvvisato totalmente! Che cazzate! Vabbè, raga, questa è l'improvvisazione, il teatro! Ma sì, mi voglio inserire qua dentro. Si inserisca, si inserisca. Siamo in una situazione dove non abbiamo il chitano, e quindi sto io qua. E niente, e stiamo aspettando Gianluca, che arriverà. Arriverà, arriverà. Arriverà quando deve arrivare? Che deve arrivare. Assolutamente. Nel frattempo io mi inserisco qui. Si inserisca, si inserisca. Come state, ragazzuoli? Ragazzuoli? Ho visto un po' di robe in queste intro mostruose, tipo il Vallo del Cannolo, del Latino. Tra l'altro poi ci ha aggiunto anche una dub finale nel 2024 che mi ha fatto un po' male a vederla. C'è stato un po'... Tra effetto nostalgia e dico... Proprio... Sì. Faceva un po'... Diciamo, al latino dà un po' l'effetto desperation. Desperate housewife. Ma il problema, lo dicevamo prima, è che siamo insetti. È vero. O no, chat. È vero. O no. Lo diceva anche Erbattiato in Shock in My Town. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. E tipo, le presentatrici in televisione gli chiedevano... Ma maestro, dove cazzo sta Camp Kidano? Ma maestro, ma perché ci paracona tutti a degli insetti? Ma noi siamo degli esseri umani, siamo belli, siamo bravi. Noi dobbiamo andare al lavoro, no? Non è vero che siamo degli insetti. Non è vero. C'ho la pelle, non ho la... Tipo, che cosa c'hanno gli insetti? Come si chiama? Il carapace, hanno certi. Il carapace è anche quel termine usato dal goblin. L'esoscheletro. Bravi. L'esoscheletro. Noi non abbiamo l'esoscheletro, abbiamo uno scheletro. Sì, ma il discorso è che... Allora, io ho una delle riflessioni, penso, più banali che puoi fare quando cresci. È assurdo che la gente non ci arrivi. È che alcuni dei nostri pattern sono sociali e anche della vita lavorativa sono paragonabili purtroppo a quelli degli insetti, magari a quelli delle formiche o delle api, no? Facciamo parte, dobbiamo vivere in questa cazzo di società e farne parte, esserne dei membri produttivi e spesso le nostre vite si asciugano a tal punto di tutto ciò che ci dovrebbe dare gusto e dovrebbe essere per noi rinfrescante a livello intellettivo e si focalizzano soltanto sul raggiungimento degli obiettivi lavorativi, quindi cominciamo a vivere un po' come degli insetti, no? Andiamo in giro, andiamo, usciamo e rientriamo dal formicaio, andiamo, impolliniamo, facciamo il miele. Sì, secondo me abbiamo atteggiamenti insettoidi. Sì, sì. Tutti quelli che ci fanno fare sempre la stessa cosa tutti i giorni, gli stessi percorsi, tipo andiamo, accumuliamo e portiamo nella tana. Andiamo e torniamo, andiamo e torniamo. E per molte persone questa è una vita tipo invivibile o comunque non è una vita auspicabile. Sì, però purtroppo è la vita che tanti finiscono per avere e di cui magari finiscono anche per essere soddisfatti per darsi un po' un contentino. Dicono vabbè, ma comunque c'è star weekend che mi posso andare al centro commerciale, al cinema, quindi non è così male. Oppure tanto c'ho quella settimana di ferie, all'anno, cioè alla fine lì mi svago, lì mi diverto. Quindi non è proprio una vita da buttare. E invece lo è. Anche quello, c'è anche secondo me il divertimento programmato alla fine. Cioè è sabato sera, dobbiamo andare a ballare. Perché se no... Non è vita a mio avviso, cioè io non è che scelgo di divertirmi, è quella la cosa. E invece molta gente esce scegliendo di divertirsi con un divertimento forzato, anch'esso abitudinario e diventa blando. È schedulato proprio, sì sì, nel tempo. Sì sì, 100%. È parte di quella meccanicità cepliniana che viviamo, nei tempi moderni, per ricordare, sempre i stessi gesti meccanici, che alla fine finiamo per andarci bene perché, ovviamente come abbiamo detto tante volte, purtroppo al momento non c'è una vera e propria alternativa, se non quella che i nuovi mestieri, il web, le automatizzazioni, come abbiamo spesso detto, stanno portando, stanno paventando come alternativa. Non è proprio reale per tutti al momento. Io infatti spesso vado a discutere, tra virgolette, perché io ho anche amici che fanno parte del mondo normale, con i lavori normali, da lunedì al venerdì, proprio classico, e quindi loro dicono giustamente, Asimo, te fai una vita diversa e capisco pure il tuo discorso. Anche a me mi piacerebbe avere magari quella libertà di poter dire, vabbè, esco il martedì sera perché me va de martedì, tanto c'è perché il lavoro me lo gestisco io, l'orario lavorativo, lavoro alle 15, quindi anche il problema di fare tardi ce lo siamo eliminato, no? Quindi è un vantaggio di fare un lavoro da libero professionista. Capisco anche loro quando mi dicono, ripeto, Simo, io ho solo il venerdì o il sabato sera per uscire, però anche in questa cosa vedo una sorta di, cioè non è che sono contenti di questo, quindi spesso e volentieri magari io il venerdì o il sabato resto a casa perché dico, regà, a me oggi non me va, perché sono stanco, preferisco restare a casa, non mi cambia niente, e l'argomentazione è, ma come? Ma è sabato, è sabato, cioè bisogna uscire. Al momento su altre logiche che alla fine possono diventare ripetitive anche quelle perché alla fine, hai visto spesso e volentieri magari la gente, quando noi, non so diciamo, o stasettimana siamo un po' stanchi, la gente dice ma come fate il lavoro, è ovvio che siamo privilegiati rispetto a chi va a fa il muratore, a chi fa, che so, il lavoro ripetitivo, che so, alle poste, però ovviamente anche il nostro lavoro può avere i suoi automatismi e gli automatismi per antonomasia possono stancare la mente o il corpo in altri modi e con altre tempistiche. Questo è anche quel sogno che ti vendono questi guru del mindset e di questi nuovi lavori del buca la matrix, esci dal sistema e vivi come vorresti tu, non fare l'insetto perché diventi un guru della finanza a Dubai, però il sogno è vuoto perché? Perché loro da quelle logiche dalle quali escono poi entrano in altre logiche, la logica del profitto, del guadagno continuo, del dover per forza di entrare in altre logiche, trasferirsi tutti nello stesso posto, mostrare tutti lo stesso stile di vita, quindi buchi una matrix ma entri dentro un'altra. Ad oggi è veramente difficile non rimanere schiavi dei propri pattern che possono essere anche sociali. Bravissimo. Anche scopare tanto può essere un pattern di cui sei tu, malgrado, prigioniero. Se fai una cosa compulsivamente, in modo abitudinario, in modo insettoide, qualsiasi cosa diventa blanda, perde quella sua, quel suo sapore. Anche scopare, cioè diventi semplicemente un insetto che scopa all'infinito. Diventi schiavo di quella routine e magari te stanca pure e ti stressa. Hello! Salve. Buonasera. Tutto buono, tutto buono. Comunque, la gente dice, vabbè, scopame va bene, come pattern, giustamente. C'è meglio dei altri. Quello che stavate a dire e si collega. Aspetta, scusa. Il titolo, no, di questa live, si è degli insetti. Chi è che l'ha messo questo titolo? Io. Come mai? Ho messo questo titolo perché è stato hackerato un coso, c'è presente quello dei termini dove ci stanno gli orari dei treni, no? L'hai visto che è stato hackerato e hanno scritto siete insetti, siete insetti, siete insetti. Si collega, ha una roba che ho visto io stanotte, per quello io mi sono inquietato. È preso da una serie tv nuova che io ho visto questa notte. Ah, ok. No, no, ma non c'è da niente, no, non c'è da niente. Non è possibile, dai. Ti giuro su Dio, non voglio fare lo spoiler perché è una cosa fresca che sta su Netflix. No, no, te lo spoilerò prima perché poi l'articolo dice questo, ovviamente, perché tutti si sono impanicati di questa roba, ma è venuto fuori che era concordata, nel senso era una campagna pubblica di Netflix per il problema dei tre corpi, sì, sì, sì. No. Era esatto perché me la sono vista stavolta, me la sono vista stavolta, è una delle cose che mi ha inquietato di più, è stata proprio quando appare la scritta, capito, serie degli insetti. Io stavo a vedere ieri, mi madre, tutta spavaranzata sul letto, se stavo a vedere staserie, io ho fatto, ma merita, ma dove te? Mi ha fatto, sì, sì, vede. Non era bomba. Io pensavo che era una coincidenza, tutto ciò, là dico, minchia, cioè stavo in macchina tutto un po' un po' aranoiato, dico, ma cos'è, cos'è sono tutte queste coincidenze? Ti buco. O hanno visto pure loro la serie, se no non capisco. Quindi facciamo vedere sta cosa che ce l'abbiamo? Sì, mi sa che il video bisogna prima finire sta pubblicità perché... Eh vabbè, la finiamo. Un medio banca per l'altro. Un secondo e poi ce lo fanno vedere. Eccolo qua. Questo è quello che è successo. Capito, tu stai a guardare gli orari dei treni, tutto tranquillo, a un certo punto che ti sta roba. Tutte le lingue del mondo. Ma solo a Termini o anche in altre stazioni? No, 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 anche a Milano, anche a aeroporti hanno fatto parte di questa roba. È stata, diciamo, un'iniziativa che ha coinvolto un sacco di posti, insomma, sia aeroporti sia stazioni. Bella idea, però ovviamente è stata bella proprio perché non l'hanno annunciata, nel senso all'inizio non si sapeva, l'hanno detto il giorno dopo praticamente, dopo qualche ora. È bella perché è emozionante da vive. Sì, si collega pure a quello che è la serie, perché la serie all'improvviso, diciamo... Oddio, come posso dire per non fare eccessivi spoiler? Non so, molto bravo con queste cose. Insomma, diciamo che la serie parla di collegamenti anche con alieni, mettiamola così, no? Che tu magari stai lì e dici... Io non l'ho vista, potrebbe essere un major spoiler, magari è una roba tipo... che si scopre all'ultimo. No, a me, beh... Che se me l'hai appena rovinata io mi... Vabbè, cazzo di loro che hanno fatto questa pubblicità, tu immagini... Ma anche io l'ho vista! Sì, però tu immagina questo, no? No! Tu immagini... A parte che ci sta scritto proprio su... A dici dura, proprio da serie, ci sta scritto proprio una cosa... Ok, ok, no, perché è ancora quello che non mi sono voluto spoilerare. Si capisce che è roba sana. E poi scusami, colpo dio. Spoilerata quando lo conosco, sono sei anni, raga. Ma per una vera cosa, ma se uno fa una campagna pubblicitaria con una frase... E poi uno dice, ma com'è c'è sta frase? Ma gli alieni come fai a rivarci? Scusa, ha detto te? Ha detto te alieni, è no spoiler? Ma quale spoiler? Non lo vedo più. Quella certa vuole fa un panicato, secondo me. Comunque, a parte di... Non è mica mia. Ma ricordato ovviamente le vibes sorprese da altre cose che abbiamo già visto al cinema. Mi ricorda, essi vivono... Come quando mi trovava gli occhiali, Roddy Viper trovava gli occhiali magici. Cioè magici, che gli permettevano di vedere la realtà degli alieni che c'erano. Insomma, e anche le scritte che loro mettevano sui cartelloni, che tutti i cartelloni pubblicitari... Ha pure te che rompi per cazzo chi i spoiler? Basta, spoilerai le cose. Ha pure te che cazzo ne sei che c'erano alieni? In essi vivono. Lo scopri dopo veramente 20 minuti il film. Incredibile. Il fatto sta che poi la cosa figa che faceva impressione all'inizio è quando lui guardava i cartelloni pubblicitari con questi occhiali, robe che noi guardiamo tutto il giorno e fissiamo per ore e leggiamo anche le insegne. Cioè stava scritto al posto di pubblicità una grossa scritta, obbedisci. Sì. E quindi era come se fosse un condizionamento. Invece questa qua è una cosa un po' contraria, vuole tipo svegliare le coscienze, vuole dire, o regà... Sì, perché anche io quando l'ho letto ho pensato, beh, effettivamente è vero, non sapeva, cioè all'inizio proprio, prima di leggere che era una... la pubblicità per quella serie specifica ho pensato poteva tranquillamente essere un hacker che vuole tipo insultare, tra virgolette, criticare... Io credo, ci sta scritto proprio su Netflix, dice proprio, cita proprio altre forme di vita. E non sono necessariamente alieni! Vabbè, altre forme di vita... Ok, ok, chiedo perdono, chiedo perdono. Non è spoiler. Non è spoiler. È anche interessante questa cosa, no? Ma sì, ma poi è anche praticamente ovvio che esistano altre forme di vita, quindi... Ma che c'è? Si collega il fatto che magari uno dice, ah, oh mio Dio, che bello, che bello, invece quello là che sta a guardare la terra dice, sei solamente dei insetti. Ah, quindi la comunicazione... La metafora è bella, questo... Sì, ma poi... È di impatto, no? Perché tu stai là e dici, ma no, pensa te che tipo di contatto c'è... potrai avere, magari ci miglioreranno esistenza, migliorerà tutto. Invece, capito, da fare su ogni dispositivo che esiste, quella scritta là, in qualsiasi lingua della parte del mondo dove stai. Ci sta. È stata una cosa di impatto, no? Sì. All'interno della cosa. E sta campagna, devo dire, funziona benissimo. Sì, perché è di impatto. Poi se volete vi posso dire pure come finisce. No. È di impatto perché... Pure prima ho detto, no? Cioè, pure gente come Battiato nelle proprie opere d'arte ha dato degli insetti alle persone. Ma sentirselo dire da un'altra scimmia, ovviamente ti fa sembrare magari quella scimmia come supponente, no? Immagina una persona... Sì, una persona che dice, questi qua sono solo degli insetti, potrà... Cioè, passa immediatamente come un saccente che sta a criticare semplicemente magari gente che va al lavoro. In realtà è una critica molto ampia, come stavamo facendo pure prima, alla società, che si deve poter fare. Su questa cosa di farla fare magari ad un essere superiore, in questo caso un alieno, te... Nell'ottica della serie, come l'ha spiegato Gianluca, te ci fa rimanere ancora più male perché non lo puoi controbattere. Perché arriva, appunto, una specie aliena, magari onnisciente, nel senso che ha una coscienza molto più sviluppata della tona, intelligenza superiore, e non è che ti dice bravo, ti dice fate schifo, e questo è il succo. Dal suo punto di vista è incontestabile, però fa anche ripetere... Esatto, se lo dice un altro umano invece subito, ma te invece come sei? Se invece te lo dice un essere superiore è perfetto, perché è vero. La cosa più spoiler, sai qual è, della motivazione per la quale queste forme di vita arrivano a questa conclusione qua. C'è una motivazione, che è una cosa che appartiene all'essere umano, che li fa arrivare a questa cosa. Sì, 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 questa è la cosa più bella in assoluto. Il finale invece, regalo, non posso spoilerarlo, perché non me lo ricordo bene, e mi ha fatto pure cagare, non è neanche conclusiva la serie, quindi è più di così, non so che dirvi. Comunque poi questa cosa a me mi fa anche riflettere su un'altra cosa, che ovviamente è importante, che la superiorità... Vabbè quando muore il protagonista, dici? Bravo. Ah, vabbè. Anche, hai visto, un essere superiore ci giudica, però la superiorità ovviamente è percezione, ed è anche quella che noi abbiamo nei confronti delle specie che noi riteniamo inferiori. Cioè noi diciamo, ah, noi siamo superiori ai formiche, siamo superiori alle cose, agli animali, proprio al mondo animale. Però è la nostra percezione, magari dal loro punto di vista, cioè loro ci vedono semplicemente invece come un tiranno, uno che arriva, li schiaccia, oppure li prende, li schiavizza. E ovviamente soltanto quello è la cosa che poi cambia come percepisci, diciamo, la catena alimentare e anche la piramide evolutiva. E questo mi ricorda un discorso, adesso lo ricordo di preciso, però era una riflessione che faceva Stephen Hawking prima che morisse. Diceva, guarda, non siate contenti, non aspettate con tanta ansia questi alieni che arrivano tutta la gente che credono agli extraterrestri. Non fate festa per l'arrivo di questi alieni, perché se esiste una razza in questo universo che è talmente avanzata di tecnologia, che può fare viaggi interstellari fra le galassie, può arrivare sulla Terra, roba che noi non riusciamo a fare, andare in altre galassie, quindi vuol dire che ci sono tanti anni di evoluzione in più, fidatevi che se ci vede a noi ci schiaccia come formiche. O hanno pietà, e quindi è una razza illuminata che arriva e ci porta la luce, oppure, come succede spesso in natura e quindi è la cosa più probabile, ci vede come una forma di vita talmente infinitesimale che proprio ci spazza via, perché non percepisce anche la gravità nello spazzaggio. Dobbiamo sperare, esatto, dobbiamo sperare che non ragionino come abbiamo ragionato noi fino a mo'. Sennò siamo fottuti, perché vedrebbero come noi abbiamo visto... Ah, guardate quanti bei polli. Esatto. Con questi me li bagno tutti, gli schiavizzo tutti, li metto in catene di montaggio, ci posso guadagnare. Se ci fosse una società aliena che ragiona come abbiamo ragionato noi, ci verremmo schiavizzati, penso, e usati per il loro profitto, per il loro benessere. Sì, sì, ma senza neanche tutta sta malafede, perché noi quello che facciamo gli allevamenti intensivi, non è che c'è qualcuno che dice, ah, voglio schiavizzare gli animali, voglio che soffrono. Questo è spoiler, però, sì, questo qua è spoiler. Ormai sì, spoiler. Io sto spoilerando non avendolo neanche visto. Sì, ma come anche il... Ma perché hai iniziato tu? Esatto. Il colonialismo. Tu pensa i conquistadores che andavano nell'America Latina, vedevano le persone che erano umani come loro, e neanche... Non sarà stato neanche un impedimento. Ha detto, vabbè, ma questi, vabbè, le amole di mezzo, tanto sono inferiori, ma mettiamoci se noi. Cioè l'uomo lo fa da sempre. E quindi è assurdo come noi ci fa impressione percepirlo fatto da un alieno, che è leggermente superiore a noi, magari a livello cerebrale, a livello tecnologico, ma noi lo fanno sempre, za anni, perché ancora non è stato detto. Za millenni. Za millenni. Porca troia. È uscito un post di Maria Sofia a riguardo, che ha suscitato molto scalpore. Sempre su questa serie? No, sugli animali. Beh, cerco di farlo vedere. Semmai dimmi che devo cercare così lo metto te qua. Maria Sofia su Instagram. Non vorrei che ti dia problemi proprio Instagram, perché spesso li dà, eh. Ok, proviamo, proviamo. Ma poi io vorrei vedere pure un trailer di questa serie qua. Eh, però il discorso è che già mi ho spiegato Adam, mi ho detto che è una cosa pubblicitaria. Perché devo giustificare che non hai detto, mamma mia, sticato. No, perché c'è una cosa che voglio dire, però voglio vedere se è così palese all'interno del trailer. Degli alieni. Quando ho visto il trailer, c'era una roba che mi aveva catturato, però era tipo mini teaser, non era proprio un trailer. Cosa, guarda il discorso, è che già mi ho detto che è una campagna pubblicitaria. Diciamo che c'è tipo un visore particolare, tutta una cosa strana. Ce l'ho io, eh. C'è un cazzo. Ah, ok. Perché è buggato. È buggato Safari per... No, però dico, nel senso, già mi ho detto troppo questa serie, perché ti ricordo che... Nessuno ha sbozzato. Infatti non stava a parlare della serie, non è l'argomento della... Ma poi diventa... Fai pure vedere il trailer, a sto punto, chi ci paga per fare cose, c'è che siamo coglioni. Giustamente. Vabbè, era questo. Mi ha suscitato scalpore perché ho visto tipo commenti di Saverio Tommasi. C'è un sacco di gente che si sta attivando pure per dire la propria. Lei è ricoperta di insulti. Come al solito. Perché chiede questa cosa che in realtà chiedevo anche io quando ero piccolo come provocazione, pur non essendo mai diventato né vegetariano né vegano. Ma perché è una cosa che spinge alla riflessione. Sempre, uccideresti un animale indifeso con le tue mani. Mo neanche io l'ho visto, sto video, veramente. Ho stoppato al primo frame, mi sono messo a leggere i commenti. E vabbè, Sabina Diamanti, però... C'è? Sì, sì, è pure pinnata in alto. Ma che cazzo! Sì, sì, l'ha pinnata. C'è Saverio Tommasi che dice, diciamo, il punto di vista che condivido. Leggendo lo scendiale di tanti commenti, lascio volentieri anche la mia... Ecco, non sono vegetariano, non ancora. E sono purtroppo lontano dall'essere vegano. Seppure la diminuzione dell'uso di carne è costante, la mia riflessione è antica. Detto questo, e lo sostengo da sempre, non esiste una sola ragione al mondo per non essere vegani. E a parte l'abitudine, si collega a quello che stavamo a D, poc'anzi con Dave, che però è più squallido degli scudi. Detto in altri termini, Maria Federico ha ragione su tutta la linea, tutta. L'ipocrisia o l'insensibilità o l'incapacità, a seconda dei casi, è tutta nostra. C'è di chi continua a nutrirsi di esseri viventi. Ci attacchiamo a stronzate. Diciamolo chiaramente, almeno impariamo a riconoscerlo. Avremo tutti i mezzi per considerare l'uccisione di esseri viventi per quello che effettivamente è un atto abominevole, anche quando compiuto in terza persona. Sia chiaro, faccio schifo io per primo, però almeno il coraggio di riconoscerlo, almeno quello dobbiamo averlo. Questo messaggio io ci metterei la firma e direi sono parole mie. E poi perché no, provare a cambiare. Anche per questo sono personalmente legato all'impegno indefesso di Maria Federico, perché contribuisce a tenermi sveglio. Sì, ma guarda, quando sento queste cose, penso sempre alla prima volta che io vidi Matrix, la vidi al cinema. Ti ricordi quando lui viene scollegato all'inizio e tu per la prima volta vedi, anche questo ti hanno spoiler addirittura di Matrix, della prima mezz'ora, vedi quei campi sconfinati, batterie biologiche che sono gli esseri umani, e tu li vedi tutti utilizzati tipo coltivazione di esseri umani. E io ho sentito proprio il brusio in sala, quando la gente si è resa conto che quello stava a vedere. Tutti io ti dicono, oh madonna, tutti questi parlavano, vergognoso, ma guarda, hai capito che stanno a fare le macchine? Come per dire, è una roba disumana, mostruosa. Lo facciamo tutti i giorni. Se guardi dove allevano i polli, è così, è già così. E noi lo facciamo costantemente, però percepito, fatto da un'altra razza, a noi ci sembra abominevole, fatto da noi è, vabbè, ma ragazzi ha l'abitudine, ma guarda che difficile smettere, certo, ovvio che è difficile. Infatti io sono stato vegetariano e anche vegano nella mia vita, però poi non sono riuscito a durare lungo, perché l'abitudine mi ha portato a rimangiare carne, e sono stato sei anni vegano. Però poi ovviamente la voglia di mangiare carne e l'abitudine dell'articolo mangiare non mi ha riportato più malgrado, però sono cosciente del fatto che sia in ipocrisia totale. Sì, sì, anch'io sono cosciente di questa cosa, e non è che... Poi c'è sempre quella cosa che uno risulta sempre che vuole fare il superiore, tipo Maria Sofia, che molti gli dicono eh, tu mi dici questa cosa e io farò il contrario. Ah ah, perché, cioè, è anche un ragionamento infantile. Voler far ragionare le persone su queste cose le fa offendere, perché vai ad attaccare le loro abitudini, le loro abitudini che loro reputa, cioè, ognuno reputa quasi sacre, nel senso che ci si identificano le proprie abitudini. Insultare i vegani e anche avere un'identità, io so quello che dice... Ma infatti la maggior parte delle persone vanno imboccate, se vai a vedere questa moda di essere vegani, alla fine c'ha avuto la sua utilità. Sì. Perché le persone vanno imboccate, nel senso se cambia il mercato, se cambia la distribuzione dei prodotti, le cose di conseguenza vanno su miglioramento. Sì, sì, tutti i grandi cambiamenti storici, sociali... Ci sono imboccate le persone, quindi bene venga che ci stanno persone come lei. Sì, perché tutti i grandi cambiamenti della storia, all'inizio, se sono rivoluzionati, incontrano un muro, che è il muro delle opinioni, il muro delle lobby, il muro delle aziende che ne vogliono trarre profitto, è il muro ideologico. E le persone che si immolano a piasse, gli insulti, i pomodori, essere cacati in testa, per primi, sono quelli che fanno da apripista questi cambiamenti storici. È sempre stato così in tutto. Per dirti, ma anche chi si batteva per i diritti, che ne so, dei neri, e l'apartheid, ovviamente avrà avuto, all'inizio tutta la gente dice, ah, guarda sto stronzo, vuole mettere questi sullo stesso piano nostro. Sai come tanta gente l'avrà insultato, l'avrà detto che era un coglione, un pazzo. Ma anche perché metteva, attualmente, i bastoni fra le ruote, a molte imprese, anche a molti interessi economici di tante famiglie. Oh, ma che me levi gli schiavi? Guarda che la mia famiglia, se muore di fame, è una merda. Danneggi comunque l'economia di qualcosa. E' anche questo che fa paura a un sacco di gente. La cosa che fa più paura, è il cambiamento, la cosa che fa più paura. Si è vista pure con la roba per le donne, all'epoca. Il cambiamento è la cosa che spaventa più la gente. Le persone sono più spaventate dal cambiamento che a vedere, che ne so, i posti dove macellano pulcini, animali, sgozzano capre, eccetera, eccetera, eccetera. Perché uno nasce in un mondo dove si dà per scontato che si è sempre fatto così, sempre è andato così, che vuoi fare? Perché quello che è sempre così viene visto che è normale. Come era, che ne so, all'epoca che ti ammazzavano, che ti tagliavano le mani, o che, che ne so, come vediamo nei film che promettono sposa la bambina o sceicco di turno, le cose più abominevoli che ti vengono in mente nella storia, molti dicevano io ce devo stare perché è così. Sono normalizzate dal profitto, dalla convenienza. Io penso che la stessa cosa la stiamo a vivere, no? Stai male dentro perché vedi questi animali trattati così e vedi molte persone che dicono ma è normale. È la stessa cosa che c'è sta adesso. Secondo me, pure all'epoca, su cose che noi abbiamo visto poi col tempo come cose sbagliate, che vi pensate che non c'erano persone che già all'epoca dicevano oh ma che cazzo stiamo a fare? Ma che è sta cosa? Solo che venivano, che ne so, bruciati, venivano esiliati, venivano imprigionati. Ma come abbiamo spesso come abbiamo spesso detto questa paura del cambiamento e appunto la volontà della gente di sentirsi più in una zona di comfort rimanendo nello status quo è proprio la leva che fa sì a tutti quei politici conservatori di trovare un elettorato che poi sarebbe pronto ad uccidersi per loro a ripetere il loro slogan a difenderli anche in piazza pubblicamente perché ovviamente è uno dei sentimenti più semplici sul quale fare leva. La paura è il sentimento che ha tenuto in vita la razza umana fino ad oggi. C'è il sentimento più importante. La paura ti permette di evitare i pericoli è proprio la cosa più innata che ha l'uomo da sempre di scappare dalla tigre dal dinosaurio solo che mo' le tigre e i dinosauri sono nella nostra testa cioè nel senso noi scappavamo da cose reali noi avevamo paura di cose concrete ok che proprio dei fulmini dei predatori di un altro magari un altro uomo che ci voleva uccidere e poi qualcuno ha capito che con la paura puoi controllare proprio le menti capito puoi far venire le paranoie alle persone più siamo diventati intelligenti più siamo diventati abili a farci le paranoie quindi di conseguenza tante cose che l'intelligenza è riuscita a fare in modo virtuoso cioè proprio le invenzioni cioè noi abbiamo scoperto poi questa noi non ci siamo inventati niente ecco noi abbiamo scoperto delle leggi che già esistevano attorno a noi abbiamo solo imparate a riconoscere e ad applicare non è che abbiamo inventato le leggi della fisica ovviamente già esistevano e noi stiamo là a capire ma quindi ah ok è così ne abbiamo avuto percezione e non è detto che sia la percezione corretta cioè noi adesso diamo per scontato alcune cose e magari poi arriva lo scienziato fra vent'anni e ci dice visto quello che hai sempre pensato sulla gravità era parzialmente corretto quindi abbiamo noi abbiamo una percezione di quello che sono le leggi che togono in universo manco le conosciamo quindi non abbiamo inventato nulla però allo stesso modo l'intelligenza ha anche permesso di creare tutti i danni che ora sappiamo legati proprio appunto a gente che sfrutta altri utilizzando paura rabbia disgusto gente che appunto come posso dire usa la reputazione per controllarti cioè se fai sta cosa dico a tutti che oppure che ne so queste cose qua che non fanno parte della natura come posso dire queste siamo un po' inventate noi però fanno leva sempre sulle stesse paure ataviche di base che è te levano da mangiare te levano casa te levano il lavoro ti uccidono te menano che sono le paure più base dell'essere umano nel senso poi gli dai un volto a queste paure dici sono quelli là però di base l'uomo funziona così ha paura di provare dolore ha paura di morire di fame ha paura di morire di freddo quello è le paure che da sempre perché è implicito che con l'ostracizzazione perderai quelle sicurezze di base assolutamente veniamo spesso ricattati in questo modo il modo più semplice ovviamente come scrivevano in chat l'unico modo per combattere questo questo status quo è fornire al popolo più cultura possibile in modo che possa avere delle idee un pochino più illuminate un pochino più personali possa arrivare da solo a fare certe riflessioni però governi conservatori cosa fanno fanno una direzione contraria abbiamo visto anche in come Berlusconi ha utilizzato scientemente Mediaset per un periodo della sua vita fanno in modo di togliere la cultura dall'elettorato in modo che l'elettorato debba dipendere a tutti i costi da una persona che sembra ha un primo sguardo più a cultura di te e che se intende più di te che dice guarda fidate tu dico io in che direzione devi andare ragazzi troppo ha usato quel media per indottrinare mezzo Italia penso oltre che indottrinare anche per togliere il più possibile la capacità critica per distrarre una tv vuota che fosse un'alternativa più divertente a leggere un libro e ad informarsi a leggere i giornali con la Rai che era comunque ancora magari un po' ancora istituzionale un po' più seria cioè la Mediaset proponeva proprio una cosa spegni il cervello sì che è meglio così te riposi però ovviamente hai creato una generazione di automi sì è vero un altro argomento che boh così secondo me è collegato al discorso insetti treni come ragioniamo la puntualità è un concetto relativo recentemente il mio amico Tago questa attesa molto a cuore ma secondo me ha un sacco che arriva in ritardo Tago ma nel senso non arriva non arriva è devastante e quindi te link della puntualità un concetto relativo su whatsapp e lui lo link a noi è tutto abbiamo capito non è che mi ha linkato questa cosa questa l'ho cercata ora perché ho cercato tempo monocronico e tempo policronico mi ha spiegato questa cosa è molto interessante in realtà una cosa di sociologia mi gusta è di come come le varie culture nel mondo a seconda anche cioè si è trovato un link tra la lingua il linguaggio di una di un popolo e anche la cultura in relazione a come si relazionano col tempo con le scadenze si dice no che io vedo anche no faccio un esempio youtube mi sta consigliando video di americani che si fanno un mese un mese in italia tipo la classica americana tutta pipipi no che si prende un villone in riva al mare in italia e pensa che sta a fare la vita di un italiano tipo a termini tipo a termini vai a termini per un mese eh quelli sono arti tipo la classica turista ovviamente capito no che si prende un posto bellissimo su una scogliera e dice vado a fare vado a fare un po' a vedere com'è la slow life italiana oppure dipendi casa al centro che so a piazza di spagna ma faccio la dolce vita si capito però non è ai fan italiani lo puoi fare a te e altri stronzi come te che tolgono agli altri comunque è per dire che ad esempio la lingua influenza a quanto pare come viviamo le scadenze ci avete presente la differenza nel dire e non c'è in inglese comunque è di meno nel dire ci vediamo alle tre o ci vediamo pe le tre è diverso alle tre significa ci vediamo alle tre però le persone le persone le culture soprattutto poligroniche e non è non è che uno è meglio uno è peggio partiamo subito dal so presupposto è collegato anche al tipo di personalità che uno ha uno tende più a vedere il tempo in modo malleabile cioè in modo fluido invece le persone monocroniche sono quelle persone che lo vedono più se dico ai tre è alle 15.00 e c'è ragione nel senso è una persona precisa per carità di Dio ma leggiamo così almeno si capisce meglio perché voglio capire perché alcune cose non può essere attuale più che è legato alla personalità è legato alla lingua proprio perché le lingue latine hanno più questa cosa della malleabilità del per le tre ci vediamo verso le quattro capito invece altre lingue neanche se una trasmissione che sia sul web o che ne so a ruota della fortuna ma non dalle otto Mike buongiorno non è che può iniziare alle otto e in quarto perché giustamente ci stanno gli step pubblicitari rispetto a pure in radio uguale su Twitch aspetta però noi lo viviamo così magari uno streamer che ne so che fa otto ore al giorno che dice io streamo che non c'è proprio un momento preciso che streamo la sera se parte di solito parte alle nove una volta parte alle nove e quarantacinque cambia poco perché ovviamente è dilatato nel tempo il suo invece gli fa una trasmissione dura un'ora gli devi dare un orario se no vabbè quando quando viene in mente no vabbè certo chiaro però è anche un discorso di preferenza ad esempio io mi vivo questa scadenza del cerbero nella giornata come possibilmente l'unica così ferrea le altre cerco di non renderle ferree capito è proprio una cosa di attitudine comunque che lo scorrere del tempo sia scandito da un orologio è una condizione necessaria per il normale svolgimento della maggior parte delle nostre attività quotidiane fino a qua da prendere un aereo a presentarsi a un appuntamento di lavoro ore minuti e secondi non sono però l'unico modo attraverso cui le persone nel mondo misurano il tempo avverbi come presto o tardi per esempio possono significare riferimenti temporali molto variabili a seconda della persona che li utilizza del contesto e della cultura in cui sono inseriti le persone fanno un diverso uso del tempo e degli spazi comuni a seconda della loro storia e della loro cultura come è noto a chi nelle scienze sociali studia le variabili che influenzano la percezione comune del tempo e anche la sua misurazione come percepiamo come percepiamo e misuriamo il tempo dipende in una qualche misura anche dalla comunicazione non verbale ed è il risultato di una serie di processi di apprendimento interazione e socializzazione prima che ancora di una questione di orologi una delle più citate distinzioni eccoci qua attenzione nei modi di percepire il tempo e noi ripeto proprio come cultura come lingua latina dovremmo essere più tendenzialmente policronici in generale è quella tra le culture monocroniche e policroniche che è utilizzata anche in contesti di lavoro e aziendali per analizzare e discutere approcci differenti alla gestione del tempo a definire la distinzione negli anni 60 fu l'antropologo statunitense Edward Hall uno dei più influenti studiosi di comunicazione non verbale e prossemica la branca della semiologia che studia il significato degli spazi interpersonali nelle interazioni sociali roba profonda raga nelle culture monocroniche scrisse Hall nel sign language il tempo è pensato come lineare e ci si aspetta che le persone facciano una cosa alla volta in sequenza l'america è così è anche possibile in generale è anche possibile farne più di una contemporaneamente ma seguendo in ogni caso un programma che ha un inizio e una fine è il caso della maggior parte delle culture occidentali che hanno per questo motivo una ridotta tolleranza per ritardi e interruzioni scrisse Hall e in cui è considerato inaccettabile dover attendere in un incontro internazionale la persona da incontrare per esempio lo è perché si tende a credere che la percezione monocronica del tempo sia l'unica possibile e va anche premiata sicuramente la più comoda perché se ci fate caso noi questa cultura monocronica a noi in Italia e anche in Europa c'è arrivata con la globalizzazione e l'americanizzazione del mondo con questa cosa della produttività perché noi de base siamo tipi da siesta come popolo come popolo italico da caffettino ha i suoi orari che sono molto simili anche in vari paesi d'Europa nel senso dopo pranzo secondo me allora adesso la globalizzazione ci sta portando secondo me nella direzione contraria in questo momento storico dico 2024 perché tutta la come dicevamo anche prima ma oggi tutto collegato sembra anche l'apparizione di tutte queste alternative professionali quindi lavorare più vedere più come non più come un salto nel buio lavorare freelance tutti questi nuovi mestieri la figura del nomade digitale gente che lavora da casa non deve per forza regarsi in un ufficio ci stanno portando a vedere il tempo come una cosa almeno quello lavorativo come una cosa più malleabile però ovviamente la scelta monocronica lui l'ha scritto nell'anni 60 quindi tu devi pensare pure a quanto stava proprio formando quel tipo di figura dell'impiegato anche del salaryman della persona che deve raggiungere l'ufficio appunto visto dall'alto tipo formicaio in Times Square che vanno che seguono tutte le linee però adesso stiamo andando in una direzione più malleabile però è pure vero che il vedere il tempo alla stessa maniera io e te è perché è stato premiato dalla società nel tempo perché è più comodo per fare anche per assolvere dei compiti base se io e te ci dobbiamo vedere oggi omeriggio e ci diamo un orario è molto probabile che riusciamo a beccasse se invece io se vediamo in piazzetta oggi omeriggio io e te dobbiamo sacrificare la nostra giornata nel cercato e beccasse perché dopo in cialà comincia a fare i giri per la piazza e qui c'è quando arriverà tu magari per te il pomeriggio sono le sette per me sono le tre abbiamo buttato una giornata è chiaro quindi per quello secondo me è premiato perché è una convenzione che aiuta a fare più schematicamente e più velocemente delle cose secondo me hai perfettamente ragione ed è una cosa che è utile ed è stata utile e continuerà a essere utile in quei contesti dove bisogna essere cioè devi stare sul pezzo e devi fare anche una cosa organizzata e ce n'è proprio bisogno però secondo me è quando lo applici a qualsiasi cosa cioè anche banalmente come stavamo a di prima il sabato sera devi uscire cioè oppure che ne so cioè non succede niente se se uno arriva un po' in ritardo come posso dire secondo me questa cosa del pretendere anche puntualità negli altri è una cosa che mi fa veni ansia perché c'ha l'ansia la persona che me lo sta a ordinare sì sì perché pretendi la performance lavorativa anche nell'interazione sociale non lavorativa cioè tu applichi il discorso e l'ufficio ai rapporti interpersonali la ragazza tua arriva a 10 minuti di ritardo perché se stava a truccare meglio per te e fa se bella per te e tu dici e fanno gli offesi cioè dai porco due no 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 questo sto d'accordissimo è strano è strano vedere come sia percepita questa cosa perché ovviamente tutti sarebbero portati a viversela più tranquillamente però anche chi ti vuole liberare da sta matrix io penso sempre a sti guru a tutta questa gente che ti impone il mindset il sigma male mindset no ti consiglia ti dicono tu devi essere libero da questo 9 to 5 job da questo lavoro che ti che ti rende uno schiavo che ti rende una formichina però i consigli che ti danno per uscirne fuori è mega impostarsi la vita alzati la mattina alle 5 il più presto possibile fai subito una doccia ghiacciata che è una concettina degli orari per fare tutte le tue tasche porta a casa dei compiti a breve termine e a lungo termine è uno stress è meglio andare in ufficio almeno te pagano puoi pure perdere tempo è una concezione super monocronica se vogliamo proprio da da agenda proprio da agendina che se manchi una cosa pare che finisce il mondo no è anche una cosa secondo me di voler controllare un po' troppo e che volevo dire sì mi sono scordato è una cosa sì questo nel senso purtroppo serve ma non dobbiamo esserne schiavi cioè chi vuole liberarti da stamattina dovrebbe proprio aiutarti a far convivere queste due parti che abbiamo nel senso quella che necessariamente ci vuole un po' efficienti e ci permette di raggiungere i nostri obiettivi però quella che ci permette di non venire divorati dallo stesso obiettivo esatto questo volevo dire poi io personalmente poi prendete e buttate se volete ho imparato più invece che ragionare in quel modo che è un modo che sento come sovra come posso dire che mi è stato imposto sovraimposto nel senso che è una cosa che non mi appartiene non ci sarei mai arrivato e sento che proprio che mi fa fisicamente del male vivere una vita proprio come un orologio cioè io stesso dovermi mettere nella condizione di essere un ingranaggio mi distrugge fortunatamente faccio un lavoro e faccio una vita che mi rende libero ma a maggior ragione anche nel tempo libero a secondo le mie energie a secondo come mi sento non traiardo un cazzo mi sento in un certo modo mi comporto in un certo modo se una cosa mi fa incazzare in quel momento se c'è un motivo non reprimo se sono spaventato sono spaventato cioè proprio non non lascio che tutta questa percepita importanza di tutti questi impegni che non lo è sovrasti il mio benessere interiore però ovviamente serve l'equilibrio perché poi devi anche trovare un angolo della tua mente in cui questi impegni trovino la giusta collocazione anche con la loro importanza per quello che è il tuo sviluppo non mi pare che non mi presento al lavoro non mi pare che in generale a te però quella è la cosa più complicata perché pure la gente dice però i consigli che danno questi guru mica so del tutto volte a schializzarti alcuni sono anche per il benessere psicofisico ad esempio dormire 8 ore fa bene sì ho capito però così schematizzati a me secondo esempio è una ricetta per il successo dei mediocri cioè nel senso per rendere il mediocre un uomo di successo perché io quando vedo gli esempi degli uomini che hanno segnato la storia di questo mondo con le loro idee rivoluzionarie la maggior parte erano delle persone sregolate non avevano questo mindset capito del nel me sveglio mi faccio la doccia ghiacciata e mi faccio tutta l'agendina cioè pensa pensa Einstein pensa che ne so Kurt Cobain noi abbiamo anche persone geniali ma poi Elon Musk stesso è un pazzo ma Elon Musk sta male cioè nel senso io non vorrei mai sostituirmi alla sua vita lui dice che lavora 80 ore tipo a settimana e ci credo e perché per stare in quella posizione devi farlo ma fallo te cioè non è che non me ne frega niente di quello che fai poi esistono anche le persone con Robby Bryant che invece ha basato sull'ossessione e sull'efficienza del proprio talento però so esistono tutte e due abbiamo anche esempi di gente che ne abbiamo anche visto i video qui al Cerbero che si lamentava che sono crollate psicologicamente e fisicamente con burnout che hanno provato a vivere una vita monocronica totale proprio vi ricordate di chi sto parlando non c'è neanche bisogno gente che crolla dietro a queste cose perché come posso dire io la vedo come una cosa sovrumana cioè che ti ti costringi a fare una cosa oltre le capacità umane cioè di una macchina ti auto metti nella condizione di dover essere un androide che porta a casa l'obiettivo fallo bravissimo poi una certa crolli è normalissimo è una cosa fondamentale ed è per questo che sono contro queste direttive di mindset così ferre perché anche per poter seguire queste direttive ferre serve un talento che è quel talento di riuscire a reggere quella pressione apposta se io e te facciamo allenamento dei Kobe Bryant e di Cristiano Ronaldo che arrivano prima di tutti allenamento se ne vanno dopo tutti si allenano anche nei giorni off fanno totte ore io e te morimo nel senso o morimo che se sparamo o abbiamo un burnout psicologico o fisico perché anche per quello devi essere predisposto è una genialità come quella del genio capito matematico che inventa una formula anche quella è una predisposizione e se tu consigli questo mindset a tutti ovviamente stai creando un esercito delle persone che seguiranno questi diktat perché hai carisma ma di questi il 95% crollerà in preda un burnout cioè non si adatta a tutti e poi sia mentale che fisico hai detto bene non è che devi nasce così spesso pure entrambe le cose quando comprende per forza quello fisico certo ma che scherzo appunto stiamo dicendo si tende a credere che la percezione monocronica del tempo sia l'unica possibile che quindi l'attenzione della persona da incontrare sia in quel momento concentrata soltanto sull'incontro in programma pure questo sembra una cosa banale ma non lo è in un sistema monocronico il tempo è generalmente misurato è organizzato è gestito come in un insieme di unità discrete e questa percezione è anche alla base di espressioni metaforiche in cui è inteso come qualcosa di tangibile sprecare il tempo trovare il tempo finire il tempo non ho tempo oddio mi sento mai non ho tempo per esempio è tardi è tardi è tardi è tardi che è il bianconiglio che era ok e beh quello ha anche un'esemplificazione dell'ansia cioè che cos'è il bianconiglio è un cazzo di coniglio con una paura atavica con una cazzo di sveglia che è sempre tardi è sempre tardi il bianconiglio e quanti ce ne stanno degli insetti bianconigli del cazzo vabbè va organizzato e gestito spregare il tempo devo trovare il tempo è finito il tempo devo risparmiare il tempo tutte espressioni che hanno meno senso nelle culture poligroniche come in gran parte dell'America Latina infatti ma neanche noi perché ormai noi siamo americanizzati e dell'Asia proprio ma che che chieres che chieres si è stato tipo così c'è stanni i culo della finanza ormai si perché sta cosa questa cultura monocronica si collega diamogli un nome alla hustle culture che muo viene chiamata semplicemente air mindset ok la cultura della produttività a tutti i costi dell'efficienza a tutti i costi ma guarda lo diceva pure Max Pezzali ti ricordi lui sul concetto del tempo diceva tieni il tempo con le gambe con le mani tieni il tempo e là è la svolta vai avanti fino a domani cioè nel senso addirittura sacrifica il tuo sonno per tenere questo tempo quindi arriva la distruzione psicofisica per portare avanti questo concetto del tempo che viene sempre a mancare o di tenere certo devi tenerlo tieni il tempo perché se no tipo scappa ma in realtà no capito Max Pezzali ci ha capito un cazzo diciamo Max Pezzali ci ha capito un cazzo ma lui ci ha mai capito un cazzo questa è una roba poi mi è piaciuta molto la versione di tieni il tempo che ha fatto live con Paolo e Chiara te la consiglio guilty pleasure totale ovviamente non si può vedere perché è tutta censurata perché poi succede no io sborrerei appena vedo Chiara sì però poi quello che hanno fatto sul palco hanno dovuto poi togliere da tutte le televisioni mondiali perché è stata una roba non si era mai visto era un po' troppo guarda Chiara è quella con i capelli chiari e Paolo è quella con i capelli paoli questa è una battuta di Fiorello ti devo dire che mezza guarda che c'è sta quando l'ha detta la prima volta ho detto vabbè bravo nelle culture poligroniche l'idea stessa che il tempo possa andare sprecato è difficile da comprendere bro chill bro perché la percezione del tempo enfatizza il coinvolgimento delle persone allora perché la percezione del tempo enfatizza il coinvolgimento delle persone e il completamento dell'azione anziché il rispetto degli orari in questi contesti è anche del tutto normale svolgere diverse attività alla volta secondo Hall che fa l'esempio dei souk in Medio Oriente mercati in cui clienti rumorosi si contendono l'attenzione di un singolo impiegato che sta cercando di servire tutti contemporaneamente è più piuttosto che attenda il suo turno prego sono piccolezze in questo contesto attenda il suo turno prego non è pratico capito guarda quando affitti qua devi proprio smerciare più gente postiette devi imparare a essere più penso te sgozzano te targono sopra quasi qua te levano il fegato si si e lo rivendono tra l'altro ma al giro dei venti minuti ce l'hanno piazzato un'altra distinzione autorizzata da Hall è quella tra le culture alte ad alto e basso contesto high context e low context in quelle del primo tipo alto contesto in linea di massima il contesto e molteplici aspetti della comunicazione non verbale tendono ad assumere molta rilevanza nell'interazione sociale grazie Rigby e si l'ho fatto più di una volta e questo tipo di maggiore attenzione al contesto rispetto alla puntualità o alla velocità è tendenzialmente più frequente nei casi in cui la percezione del tempo è policronica c'era pure uno uno schemino che avevo poi se vi interessa andatevelo a legge perché è molto lungo mi sto anche rompendo i c'erano anche dei libri che ne parlano sì cioè sarà da google questi concetti vedete se c'è una bibliografia qualcuno magari ha esposto in maniera bella esaustiva questa roba perché è molto interessante anche in varie epoche secondo me c'è il concetto del tempo c'è sempre stato da quando hanno fatto cioè da quando si sono inventati 24 ore secondo me e poi una volta non erano anche 24 la rivoluzione industriale secondo me ha cambiato tantissimo oddio mi è venuto tipo un flash non sono sempre state 24 ore quant'erano una volta regà le ore cioè come in quanto di vedevano la giornata o 10 o 12 può essere una volta il giorno intendo la giornata secondo me è sempre in base alla rivoluzione ho avuto un flash su una cosa che ho sentito tempo fa ma non me la ricordo io da qua non vedo nulla no ma stanno a fare la tombola non c'è altri non lo sanno praticamente questo è uno schemino che non è esaustivo ma almeno fa capire un po' in realtà avevo anche una una versione tradotta da Tago però me la devo mandare su whatsapp vabbè essenzialmente persone monocroniche e poligroniche fanno una cosa alla volta fanno tante cose alla volta si concentrano sul lavoro sono molto distraibili e proni a interruzioni prendono gli impegni temporali le scadenze e le diciamo le agende molto seriamente considerano invece gli impegni temporali come un oggetto come un obiettivo da raggiungere se possibile guarda a me questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta questo articolo perché mi dà fastidio le cose che poi schematizzano tutto e tu quale sei esatto noi siamo un misto fra le due e gli schemini così duali tra l'altro da test di tiktok the barbie infatti basta cosa ci abbiamo su ndi volevo andare a parlare proprio del discorso dei siffreti proprio per penalizzare gli insetti quelli siate insetti penalizzare nel senso colpirli sì sì per dargli una visita in faccia quelli che hanno visto il fatto che parliamo di una roba un pochino più di iperuraneo che facciamo delle riflessioni come motivo per andarsene dalla live e ora parliamo del main di questi giorni così uno recupera e ci danno visualizzazioni su youtube e guadagniamo i soldi e mentalità della hustle culture della produzione allora Rocco Siffreti che ha combinato che ha fatto Rocco Siffreti che ora sta a fare tutta un'operazione di ripulimento immagine è diventato il santone erpentito deve pregare Rocco Siffreti sta in operazione simpatia ma gli hanno fatto la serie deve pregare ogni giorno Rocco Siffreti che succede deve vedere i soldi che è successo in generale non contro ma in generale secondo me è un personaggio altamente è bellissimo questa roba c'hai una faida in atto aspetto il gate tutto qua parca troia è bellissima è un personaggio altamente discutibile voi appuntate queste cose che io sono profetico magari a distanza di uno o due anni poi succedono le cose porca puttana Dave ne stiamo a parlare prima della live di quello che sta facendo insomma Rocco Siffreti ultimamente è abbastanza plateale penso sia abbastanza chiaro però secondo me non chiaro quanto lo è a noi che siamo illuminati appunto prima di sparare magari frasi vediamo che cosa me lo dico a me stesso vediamo che cosa ha fatto se no lo insulto e basta ma io non so che ha fatto io ho sto pensiero su lui da mesi da quando vabbè già c'è una cosa che abbiamo fatto prima che non c'entra con i fatti accaduti che è un po' questa operazione simpatia generale che lui ha fatto anche tramite alcuni articoli che mi è capitato spesso di leggere un'intervista in cui lui diceva sai adesso quando sto con mia moglie penso a quanto tempo ho perso quando facevo tanto sesso non era quella cosa mi sono un po' pentito del mestiere secondo me è una brutta è un brutto messaggio da lanciare come se l'unico modo per redimersi a patto che si debba redimersi dall'aver fatto un mestiere di sex worker sia quello di pentirsi un po' anche Eva Enger ha fatto sto percorso andando in televisione lasciando quel mondo ha sempre dato la narrativa però io mi pento allora visto che sei pento è una brava persona puoi anche cambiare nella vita e puoi anche entrare in una nuova fase della tua vita senza necessariamente rinnegare quello che hai fatto perché se no vuol dire che tutti quelli che rimangono in quell'ambiente sono dei miscredenti delle merde esatto per me non ha molto senso dire che cioè tu sei arrivato fino a quel punto proprio per la cosa di cui ti stai pentendo cioè io spero che lui se ne renda conto perché lui si lamenta che è stato sessomane e lo capisco pure che è una condizione brutta cioè nel senso uno dice vabbè scopi una cifra che cazzo ti lamenti no come dicevamo prima qualsiasi compulsione anche di una cosa presumibilmente bella te la fa diventare una merda e ci credo quando lui dice cioè stavo male però indubbiamente è stato il suo successo più grande e poi invece di fare secondo me un discorso che va veramente a parlare delle problematiche del mondo del porno ha fatto un discorso che ha parlato delle sue problematiche ma ha volto solamente a farlo lavorare di nuovo e di più ma con un'altra luce perché è invecchiato e magari non vuole fare le stesse cose che ha fatto prima però alla fine cioè il suo fine lo vedo sempre egoriferito e quindi sì ma poi ovvio ragazzi sono anche che è molto complesso parlare dei Roccosifeti senza innalzarlo a divinità in Italia questo è una cringiata incredibile imbarazzante tu dici che lui ha sbagliato che oggi si è messo le scarpe che non stavano bene in tinta col pantalone e arriva gente mettete qua là unico orgoglio italiano voi quando scoprete quanto ha scoperto lui ma se ha detto che stavano a merda cioè le cose per cui lo idolatrate sono quelle di cui si è pentito ha detto stavo male era una difficoltà veramente sto paese gli puoi toccare tutto ma se gli tocchi così freddi madonna mia è come è peggio del duce è una roba spero di non conoscere queste persone guarda adesso tu vedrai nei commenti se adesso muoveremo una piccola critica tu vedrai poi su youtube però non vi permettete è lo stesso principio di identificazione che uno se ciase insulti Totti nel senso che se tu insulti Totti insulti lui perché lui quando Totti giocava e faceva le sue cose lui voleva essere Totti allo stesso modo tutti questi pecoroni scimmie che hanno visto magari Rocco Siffreddi con i porn tutta la loro vita era Rocco Siffreddi era la loro identificazione tramite per sborrà quindi erano loro che scopavano attraverso Rocco sta insultando Rocco insulti loro e diventano ciechi per via di questa identificazione di questo pure per le troppe pugnette diventano ciechi ma diventano ciechi anche a quando Totti in barba al decreto dignità te sponsorizza apertamente poi da per tutto i siti che so gemellati a quei siti scommessi che c'è pure Crazy Time quindi pure eh sì basta cosa adesso 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 che sta sto Batsons uno di quei classici siti capito che hanno lo stesso nome della parte gemellata ovviamente dei casino e delle scommesse calcistiche però dicono questo è il nostro sito di news che aggiorniamo una volta ogni 26 anni in cui ci sta in cui ti diciamo è un'occasione per dare spazio a chi vuole informarsi però se chiama tranne una piccola parte è il commercio di scommesse quindi io ho detto io sono sempre stato della Roma non sono mai stato dei giocatori sono sempre stato della Maglia anche se Totti per me rappresenta una parte importantissima di quello che è la Roma l'ho sempre idolatrato come calciatore a me tante cose che ha fatto dopo come persona ma non ho anche cringiato ovvio non lo vedo come un dio anche se gli sono grato per tutto quello che ha fatto per la Roma quindi anche per per Rocco Siffedi bisognerebbe applicare la stessa cosa nel senso sia un grande figo che ha scopato che noi italiani siamo fissati che ci piace scopare lui ha scopato tanto è un grande però se fa delle cringiate se fa delle cose greve cioè lui appunto è una persona che ha scopato meccanicamente tantissimo per la maggior parte della sua vita no? e dice che è una merda che è vero però io ci credo quindi è croce è delizio come fai essere un dio capito se stai dipendenti d'eroina è una merda ma mentre te spari in vena l'eroina te sfida di che è una merda in quel momento ti rendi conto magari dopo per le droghe per il cibo però Totti quando secondo me mica stava male quando giocava almeno lì era veramente un dio nel senso tu sei un dio quando stai a fare quella cosa per cui sei nato nel senso e sei bravissimo e nessuno ti può di niente perché stai a fare quella cosa giusta poi però non è che quella condizione divina rimane pure quando vai fuori a fare le cazzate che fai capito bravissimo bravissimo la sei in contatto con la parte divina di te il tuo talento quando eserciti il tuo talento sei tipo c'è nel senso non quello quando una persona sta a fare la cosa per cui è brava però poi finisce di fare quella cosa sei una merda come tutti l'altri torni insetto eh sì mi piace che ci sia il collegamento insetto dai dai questo è un po' ha fatto un riassunto fanpage poi vediamo se non è accurato magari leggiamo un articolo però ti fa capire in linea di massimo quello che è successo lui è andato a fare un'intervista con una giornalista può andare un po' indietro scusa la prima frase no ma dopo tanto sentiamo gli audio ok ok la sono riportate quella era un piccolo una piccola avrebbe rivolto ad una giornalista che lo ha intervistato in occasione dell'uscita di supersex lui le avrebbe inviato i primi messaggi subito dopo il loro appuntamento all'inizio si sarebbe trattato di una conversazione cordiale poi dopo i primi complimenti avrebbe iniziato ad offenderla e molestarla arrivando a commentare la sua vita sessuale infatti una scorpacciata di cazzi impara a essere una persona normale normale mazza cioè quindi scorpacciata di cazzi dopo che uno dopo che uno si fa una scorpacciata di cazzi diventa una persona normale è troppo bella mi piace l'espressione scorpacciata riguardo i cazzi perché immagino dei cazzi che ovviamente per fare la scorpacciata non devono stare attaccati ai proprietari cioè nel senso devono essere così liberi da poter prendere quindi sono cazzi tagliati e tu ti picchi in bocca tipo il cookie monster esatto bello bello ora e dopo come appreso da fanpage.it perché fai l'offesa sei una donna forte ma ora non mi rispondi più cazzo secondo me era un pochino più de verde mentre lui lo pensava quello diceva ma quindi è stata è stata una chiamata cioè dove lui le ha dette a voce sono dei messaggi vocali come l'ha detto come può averlo detto un messaggio si non così spento mi ha detto interpretami un po' sei dell'interprete perché la roba mi è già scazzatina me lo faccio io ma perché fai l'offesa sei una donna forte no io mi viene solo il doppio aggese sono stato traviato da Merluzzo e Iacono e i suoi compagni malvagi che hanno rovinato questi no sto scherzando perché fai l'offesa fai l'offesa sei una donna forte no non so mi sono pensato tipo cristiano story impact perché fai l'offesa sei una donna forte no ora non mi rispondi più cazzo cazzo guarda che è questo apposta dai qualcuno li insulta però è difficile questo mestiere perché non è essere tu a dirlo però a dirlo in maniera credibile provaci un po' no non so capace è difficile non so capace aspetta perché non so se è meglio buttarla lì o overactarla tipo ma perché fai l'offesa no vedi me viene porca troia è meccanico poi devi addarire dai no ma perché fai l'offesa no niente perché ti fermi non ho capito cosa succede mi sento meccanico eh sì pure io pure io non riesco a farlo normale sei una donna forte no vedi non mi viene ma ora non mi rispondi più eh niente non ci riesco cazzo 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 e la giornalista ha deciso di denunciarlo per molesti e molesti sessuali al commissariato di Prati insieme alla sua legale l'avvocata Laura Sgro mi hanno detto in assoluto che non dovevo fare l'intervista con te me l'hanno ripetuto e quindi non avevo bisogno di farla vabbè pure prima con Dave stavamo a discute che molestia sessuale a noi ci sembra un termine non corretto perché è una molestia io credo che sia una molestia verbale una sì 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 nel senso è come se io mo ti inizio a insultare o a dirti cose che io so che ti fanno del male nel senso psicologicamente ma non è che ti sto molestando perché voglio ottenere del sesso da te io credo che la molestia sessuale sia quando vai a a insistere fisicamente insulto e ingiuria è grave secondo me perché allora il problema sta nel fatto che mo dopo sentiremo i vocali qui effettivamente in una prima parte la cosa che qua su Pampeggia ho liquidato dopo i primi convenevoli dopo i primi complimenti è stata una fase del pseudo flert che c'è stato all'inizio prima che gli manda lui dice comunque sei proprio una donna top una grande femminità quando ti ho vista proprio non mi riuscivo a controllare che secondo me ci sta a provare eh però ha fatto il vicido eh però ha visto il contenuto dei messaggi dopo subito dopo che era comunque a parte questo mi potessi rimandare l'intervista perché volevo vedere se ci siamo capiti bene su tutto e voleva un po' vedere se poteva avere una corsia preferenziale nel decidere anche lui insieme a lei concordare un po' come uscire da questa intervista quindi secondo me la fase iniziale in cui lui ci provava potrebbe anche non essere lui ci sta a provare veramente stava a fare un po' il magnetismo siffrediano gli faccio i complimenti la faccio mettere il corteggiato in modo che dopo magari più predisposta sta a me a sentire certo certo quindi non so se lui effettivamente voleva ottenere sesso però essendo un ex sessoma ne può darsi pure che te devo dire non lo so ma questo è quello che l'ho interpretata io poi in chat giustamente stanno a dire comunque se uno magari se io vado a dire ad una ragazza delle cose grevi quindi nel reame dell'insulto e in più ci metto dentro dei connotati sessuali come il cazzo devi scopare dicono che può essere configurata come una molestia sessuale e se per legge è scritto su carta che è così è così questa è la legge però io non la vedo come una cosa della stessa gravità e con lo stesso intento se io ti dico se io ti metto la mano dietro e ti spingo a farmi un bocchino e ti dico ma perché non me lo succhi un po' quella è una molestia se io ti dico ma ciocciamo il cazzo non te sto effettivamente suggerendo di succiarmi il pene è un insulto che te faccio esatto esatto la molestia quando io se io sento la parola il termine molestia sessuale mi immagino una componente fisica quantomeno però ci sta che o anche psicologica però volta a ottenere effettivamente del sesso stava a dire questo può essere pure via chat però certo non sta qui ma perché non ci vediamo che ti vorrei fare in questo momento io ti dico come ti vedo ti salto addosso mi ti scopo quella è una molestia sessuale che è pure via chat magari uno si risente è una molestia sessuale è vero capito se come ti vedo per stata me te in capretto se lo dici a una sconosciuta si ma se lo dici a una che magari con la quale hai confidenza che gli prenda bene però se lei ti fa capire che è indesiderata questa cosa tu dici l'intenzione di chi lo dice magari non è quella cosa lì perché sai che la persona c'è confidenza però quella magari si risente comunque si però se quella ti fa capire che non vuole e tu continui è una molestia esatto esatto uno può anche dirlo perché lo sente arrapato e vuole fare anche un complimento però appena percepisci che non viene preso come una cosa tu dici vabbè ok scusa non volevo sia chiaro che tutto quello che abbiamo detto ci rende come dei molestatori pure a noi perché immagino questa è una cosa che hanno fatto un po' tutti ma certo ma pure io ho detto a una cioè vorrei senza avere la sicurezza che lei ci sta penso che è successo un po' a tutti magari di qualche frase ma non dico cose fisiche io parlo delle frasi scritte pure o anche a voce poi se ti dice guarda zi mi sa che hai frainteso qualche cosa vabbè scusa ciao capito in quel senso quante volte può essere successo che magari non so dici qualcosa del sozzo a qualcuna ma poi magari dall'altra parte c'è un rifiuto può succedere non è che l'hai molestata capito quindi poi è anche difficile stabilire se è una molestia se essuale o meno come ha detto Dave ci deve stare almeno un elemento almeno minimo di insistenza e poi bisogna anche valutare tu la confidenza che hai con quella persona perché se ho zero confidenza almeno io non me permetterei mai un discorso proprio di educazione di no sì ma poi la gente è successo con Billy Bella esatto comincia a scrivere in chat la gente ascoltate Avvocato X ascoltate Avvocato Y ascoltate questo allora io vi sconsiglio di cominciare a fare le squadre in base a chi l'ha detto perché prima cosa questa è una cosa di cui dovete avere un'idea personale una percezione personale di quello che a voi sembra troppo o no però c'è anche da dire che ovviamente quando si tratta di personaggi così famosi si fa gara a lanciare ideologie sia per attaccarli che porta a popolarità sia per difenderli che magari ci si prende tutta quella fascia di persone che li idolatrano quindi sono i casi più strani in cui definire e anche se un avvocato ti spiegasse come Angelo Greco quando fa le disamine senza mettere l'ideologia dentro e ti dice guarda la legge dice così non è detto neanche che sia la cosa più corretta a livello morale perché come diceva il nostro amato Giordano la legge non è sacra la cambia e la legge da sempre quando poi un popolo o uno stato capisce che qualcosa non è così giusta come dovrebbe essere da sempre cambia le proprie leggi pure la costituzione si cambia quindi fatevi un'idea propria capite a voi se vi avrebbe dato fastidio o no e da lì poi si intavola una discussione non per forza su quello che è universamente giusto o sbagliato perché noi qua non siamo non abbiamo la facoltà di deciderlo mi sembra ancora ok tutto qua se no facciamo le squadre di calcio quelle qua Giordano diceva l'ho porto un momento non sono mica una di quelle da una botte via ci siamo appena conosciuti e poi tu sei sposato sposato per la magra io e mia moglie non abbiamo più rapporti è impossibile averne quando l'ho sposata c'era un culetto così mo che fai camere separate oggi hai fatto le pratiche per il divorzio adesso devo pensare a rifarmi una vita sono tanto solo tanto ci ho bisogno di un effetto di una voce amica di una compagna per la vita chi si deve fammela oh no no questo diciamo come fa a dire che non è un grandissimo attore cioè questo è un fenomeno noi abbiamo fatto fatica a dire la frase di prima per fare sta cosa di una compagna per la vita cioè questa è un'inflessione che solo lui ha a me fa ridere quando fa gli alti e bassi lui quando cambia tono e poi ad esempio pure la scena quando finge che voleva fare la fila perché c'è stava l'amante ma che cosa fa si mette in fila si coscienza civile semplice coscienza civile è un po' di tucazione e poi fa è un po' di tucazione e poi quella insiste e muo e muo mi ha rotto il cazzo figa bella ma dopo un secondo no cioè fa prima e poi poi muo e muo mi ha rotto il cazzo figa bella c'ha sti alti e bassi che so qualcosa le pazzesco christian de sega c'è almeno sempre l'ho fatto sciacquatevi la bocca veramente comunque vabbè vediamo un po' se ci spiega poi andiamo però al fulco poi sentiamo i messaggi i messaggs tanto ormai l'hanno fatti leggere un po' dappertutto l'hanno fatti sentire un po' dappertutto anche la zanzara è diventato i pubblici la giornalista ha prima parlato con si freddi poi si è interfacciata con l'ufficio stampa di netflix la piattaforma che ha prodotto e pubblicato la serie tv sul noto attore porno i primi messaggi sono arrivati prima ancora dell'intervista mi ha inviato la mia immagine del profil scaricata da whatsapp insieme a complimenti e lusing non aveva alcun tipo di confidenza con me ma non ho dato peso l'attimo pausa cioè le ha mandato la sua immagine della chiede la sua immagine del profilo di whatsapp cioè ha scaricato ha salvato e ha rimandato a lei che senso c'ha è un boomer è una boomerata che cazzo è ecco già questo mi fa pensare o faceva parte di questa strategia per ringraziarsi o comunque già questa è una roba fuori luogo io te mando comincio a fare ma poi sei proprio bella cioè il profilo su whatsapp stava a scrivere su whatsapp la vedi che t'ha tu mandato esatto cioè ti dico oh mi piace comunque sei bella qua cioè mi senti la foto che c'hai su whatsapp sei proprio bella non è che la rimane questa di da scalico cioè io mi immagino lui là col cazzo in mano capito che fa un screen e poi dice beh gli amano ma come fai col cazzo in mano a scrivere perché lui comunque c'ha grossi servono due ah c'ha vabbè la dettatura vocale secondo me si mette il telefono sopra il cazzo ah si si così con le dita e usa il tram insieme capito tipo il pad modificato di vela la situazione sarebbe presto degenerata poi è arrivato il giorno dell'incontro la giornalista e si freddi sono rimasti per circa due ore insieme per la lunga intervista dopo essersi salutati sono arrivati c'è qualcosa che si lega al forzo che usano peccore quello che usano peccore il pip e poi il pip e poi su urbicipite messaggi allora però così domande indietro messaggio di prima sei veramente simpatica troppo forte troppo carina e buona no però così ovviamente sono interpretabili dalla voce del diretto interessato ragazzi ah vedi così non la dobbiamo interpretare noi ma che è con IA questo oppure lui vuol dire che sei veramente simpatica troppo forte troppo carina e buona adesso te lo posso dire gg gg si è buona è buona gli ha fatto il gg gli ha fatto si si ma mazza di buona una un attore porno si è imbarazzato si è imbarazzato è buona ti stringevo non te lo potevo dire troppo di più però c***o vabbè lasciamo perdere avrei capito visto la faccia che mi stavi a far venire proprio roba un po' particolare ma che è mi stai a far venire proprio roba un po' particolare l'italiano ce lo siamo scopi vabbè tutto il sangue era stava irrorando i corpi cavernosi ma lui appunto ci avrà scopato tutta la vita con sta cosa cioè comunque la donna che dice vabbè mi scoporò così freddi è un privilegio è un privilegio perché è l'uomo che ha scopato così tanto se vuole proprio me visto che lui può avere tutte le pornottici che vuole io sono una privilegiata sai qualche colleghi che ho visto che usano questa tattica mamma mia ma io ho tante ragazze appresso vabbè tante ragapse se una cede a questo tipo di incantesimo che alla fine quello è è un'oca o comunque è un'oca è ingenua spesso capito è ingenua diciamo ingenua spesso magari sono ingenue perché se pensano capito chissà che cazzo di vita chissà che cazzo di mondo chissà com'è quella persona realmente non sanno com'è quella persona realmente quando non è un insetto vale soprattutto però così freddi perché poi vedi allora vediamo un po' però vabbè te l'ho detto per dirti che sei una donna top femminilità top tolto questo creata parentesi sarebbe carino se tu mi rimandi l'intervista perché tu è per questo che ho instillato ho voluto instillare quel dubbio prima della strategia non del fatto che veramente voglio ottenere qualcosa da questa perché addirittura nello stesso cioè nel vocale subito dopo detto questa creata parentesi che è anche un lapsus in cui si autodenunci cioè ho voluto creare sta parentesi che è peggio quando è palese quello che stai facendo cioè lui ha detto ti faccio il complimento all'inizio così poi gli chiedo una cosa e sarà più propensa da una cosa di manipolazione ma così è manifesta non so come non è celata è la classica cosa di chi non sa manipolare che si autodenuncia ma creata la parentesi e così ottieni se la persona comprende e lo comprende perché è palese il tuo intento ottieni l'effetto opposto bravissimo tutto quello che è stato prima lo invalidi completamente perché c'è ma quindi era questo il motivo è quando chiamate un amico vostro e volete chiedere un favore mandate un vocale e fai ah bello ma come stai c'è un botto che in sé sentimo ma tutto a posto dica la ragazza tua e il pubo tutto bene senti te volevo chiedere una cosa 200 euro cioè è proprio quella che tu stellata aspetta sì ok ok quando arriva quando arriva la richiesta sì sì porca droga due cose molto personali che mi piacerebbe leggerle prima che le mandi in pubblicazione solo per aver definitivamente chiaro che ci siamo capiti che dato è legittimo chiedere revisionare l'intervista certo visto che concordata è un po' meno genuina ma non penso che questa fosse un'inchiesta d'assalto capito no ma fino a qua a parte quei complimenti un po' così non ha fatto niente di male credo sia suo diritto chiedere questa cosa cioè lo è molto molto piacere grazie mille woman grazie mille woman grazie mille woman pure merita grazie mille woman iniziamo a chiamare donne diciamo capito un cazzo perché in chat pure qualche simp dirò così fetica ma è anche vero però voi esagiate voi non vi rendete conto della potenza sessuale che ha quest'uomo hanno scritto proprio così voi non vi rendete conto vabbè vabbè riscrivilo quando perdi la virginità riscrivi tra l'altro il fatto che tu ti rendi conto così tanto più di me ovviamente rappresenta assolutamente un problema in un mondo aperto e moderno dove tutti possono fare quello che vogliono però è quantomeno sintomatico e indicativo esatto fate due domande ok perché poi non c'è niente di male tra l'altro ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice non incontrare questo ovviamente è arrivato dopo invece che l'articolo è uscito perché comunque ho letto l'articolo e sono rimasto male capito manda indietro dei cinque secondi please credo almeno dopo woman credo che ci sia lo stacco ok ho letto il tuo articolo l'articolo è uscito ok e lei non gliel'ha mandato non gliel'ha risposto a quei messaggi là ok perché quando il destino ti dice non incontrare quella persona perché è una persona sbagliata una persona non giusta certo che è veramente che è esattamente un altro modo molto semplice per definire sbagliata un po' di tascalico però ce sta voleva trovare un'altra cosa sbagliata non giusta ma poi il destino ti dice cioè io vorrei parlare ma impara da Leandro che trova il sinonimo veramente molto meglio sì sì poi che vuoi dire che il destino gli dice cioè che cos'è ma che è il destino mi sembra c'è stato qualcosa che non gli è andato bene no e quindi il destino un po' qua sta di vedi oh sapevo che non dovevo fare intervista e che settimana è successa sta cosa perché potremmo vedere l'oroscopo del suo segno che diceva in quella settimana capace che ha consultato l'oroscopo potrebbe non è una brava persona la mia natura mi porta sempre a voler scoprire il perché e calcola che avevano ragione non sei una giornalista sei piuttosto una profittatrice per vendere i tuoi articolini gonfiati estremamente dove ci metti tanto del tuo e appesantisci e fino a qua potrebbe pure essere scusa se è percezione sua quando ha letto l'articolo sta dicendo quello che vuole e ancora non sta utilizzando termini pesanti e sta approfittativi poi sta se lui pensa quello cioè guarda comunque vaffanculo ha letto l'articolo ha detto delle cose confiate qua siamo nel fair game ancora ti puoi lamentare come è un articolo certo se fosse vero è grave diventa veramente una stampacrazia piena di voler appesantire che togli di qua perché te l'ha detto il direttore e aggiungi di là vabbè buona vita woman buona vita woman e se tutto si fosse fermato qua questo buona vita è di solito la fase conclusiva top rocco magari l'articolo può essere opinabile però se per lui è così è così te mi hai fatto l'articolo a me mi ha fatto cagà sono libero di dirti mi ha fatto cagà ciao non mi piace come lavori arrivederci fino a qua va tutto bene a parte woman che cringe però woman non so sia bene sia male capito è una di quelle parole che tu dici però puoi dire in entrambi i modi sia per dire ok donna sia per dire woman c'è da dire che è già legge e woman però ho anche capito woman è molto insinuo come termine devo dire all'inizio l'ha detto in termine un po' così un po' provoleggiante e stavolta l'ha detto sminuente stavolta era ok woman dal tono si capisce c'è da dire che anche grandi leggende prima di lui l'hanno utilizzato in maniera virtuosa pensate a Bob Marley diceva no woman no cry voi non avete idea della potenza imbubulente di quell'uomo certo lì era una donna metaforica appunto però sì quei remix che hanno fatto per black panther hai sentito sempre no woman no cry stupendo chi era non lo so chi ha fatto non lo so però è bellissima canazzo mi sembra no è lui ultimo messaggio a te credo veramente che ti manchi il c***o ma perché non c'è bisogno non c'era bisogno se sentivo diventare un appendice comunque ci tengo a dirti ci tengo a dirti ti manca il c***o cosa che ho notato perché quando una donna arriva a essere così vuol dire lui se ne intende c***o gli manca per davvero quindi ecco fatti una pausa fatti una bella scorpacciata di c***o 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 si qua dice e ritornerai ad essere una persona normale lo so che pensarei che sono patria allora aspetta perché questa invece è la parte 3 e qua già non va più bene è là che lei si è sentita molestata per quello che noi dicevamo ok questa è una roba pesante molesta che secondo me dà denuncia però non per molestia sessuale uno che ti dice oh via più c***i non te sta molestando sessualmente per ottenere sesso da te te sta insultare anzi ottiene l'effetto contrario cioè te sei giocata a vita ma si poi è un concetto ovviamente sessista misoggino cioè mi ricorda quando che ne so c'è stava la maestra la professoressa arrabbiata e dicevamo tutti questa deve scopà deve scopà perché si dice che le donne soffrono di isteria è una cosa che va anche molto indietro nel tempo ammazza quando stavo a parlare giorni fa pensavo la stessa bravissimo si diceva in passato che le donne affette che dicono troppo la loro che stanno troppo così che fanno un po' quello che vogliono soffrono di isteria e devono essere o trombate o le prescrivevano dei dildo sono stati creati così i primi vibratori curare l'isteria femminile listeria femminile che era perché non avevano cazzo essenzialmente perché non avevano orgasmi quindi si dovevano placare queste donne è una cosa proprio abominevole che le tratta come un animale che tu dici devo far star meglio la mia mucca è quando tipo che devi fare la sega al vitello che cazzo ne so per farlo sborrare vabbè come tutti quelli che hanno il cane che ovviamente che ne so la sera gli fanno la vippetta e seghino per farlo star tranquillo è una cosa che tutti fanno tipo quella cosa lì certo è normale chi ci arriva al pastore tedesco tu la sera prima fai la passeggiata poi prima che risali sopra gli fai la vippetta e poi è vero no? sì 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 tutti lo fanno io so che degli animali lo fanno vabbè con quel cane femmina non faccio queste cose degli animali ora il cane no ma degli animali io so che vanno masturbati ma chi? no ma come chi? ma come chi? lo fanno lo fanno vabbè no e sì gli animali vanno masturbati ovviamente non dal proprietario no per motivi sempre legati al consumo per motivi di animali in cattività ovviamente però appunto è questo io lo faccio sempre con la mia iguana se vedete una donna che si comporta in un modo che non vi sta bene il pensiero che va a questa donna deve avere un cazzo c'è un problema tu pensa a chicciarci guagua no? devi mettere là con occhiali e pinzette ti metti la che incecocchiale lo capisci? sarà un ciuffetto dei peli o la roccia avrò preso è un casino bellissimo bellissimo vabbè fatto sta che succede questo lui sgrava così e secondo me ha fatto bene lei a sentirsi insultata e anche a rivolgersi a un avvocato però secondo me la strada che hanno scelto dell'accusa secondo me non è quella almeno a livello ideologico corretta poi se la legge prevede questo ok però adesso c'è la parte 3 che sono la più cringe di tutti lui manda sti messaggi dopo poco però se rilegge l'articolo e qua fa il cavolavoro di comunicazione che a me mi farà troppo ridere vai vai non vedo l'ora che già c'è i meme che già fin qua ci stanno già meme è stupendo è stupendo tornerai ad essere una persona normale time skip non so che pensarei che sono pazzo tanto non ce lo pensi ho appena letto tutta l'intervista è niente non c'è nulla di tutto quello che avevo in testa che avevo immaginato che non lo so perché ho queste allucinazioni che vedo tutto male probabilmente da non lo so scusami di nuovo non è scritto nulla di sbagliare ma è geniale ma come però ha sbroccato ma come ma cos'è un po' di autocontrollo hai capito che lui fa pure tutto mi fa incazzare che fa lo spirituale fa quello che ha capito quello che ha trasceso il cazzo proprio il cazzo una gimmick per vendere per ripulirsi l'immagine sì l'avrà capito mi sa che ho fatto la cazzata aspetta che rimettiamo a posto un attimo perché è uscito il vero me esatto rimettiamo un attimo a posto lì è proprio la classica scusa dopo la sbroccata perché sa che devi di scusa però secondo me no perché lì la scusa sarebbe stata perché io ci ho riflettuto un sacco ma che avrei fatto in una situazione del genere avrei chiamato e ho detto guarda scusa veramente lui non ha messo enfasi sulle parole che aveva detto prima ho capito mi sono arrabbiato però non giustifica affatto le cose che ti ho detto effettivamente mi sono espresso male al di là dell'intervista scusami perché l'ho insultata dal nulla ma sembro pazzo è anche per quello ma secondo me non lo dice lo mette pure per metterlo sotto il tappeto però in quel caso hai detto guarda però ti dico l'intervista non mi è piaciuta ho sbagliato però l'intervista rimane un problema qua ti fa proprio capire che l'intervista non è mai stata un problema se ne è proprio reso conto è qua che empatizzo un po' perché lui ha sbagliato su tutta la linea a dire quelle parole e quella è proprio una roba condannabile però sull'ultima parte un po' mi ha fatto rite perché su questo ci siamo trovati un po' tutti che fanno la sbroccata capito con l'amico e poi torni a casa ci sono proprio un coglione se magari scopri che te rileggi un messaggio e ti ha mandato te lo riascolti porco tu ho capito male oppure ho letto un non dove non c'era possiamo capirla quella sensazione quando uno si sbaglia l'unica cosa che empatizzo è questa però appunto magari mo' non lo so però per fare un po' l'avvocato del diavolo e lui le ha detto scusa non hai non hai sbagliato niente quindi in qualche modo magari sto a fare un po' un salto logico me ne accorgerò mentre lo faccio in qualche modo però se l'avessi fatto te le saresti meritate quelle parole se non se non chiedo scusa per esse assolutamente d'accordo con te è proprio implicita questa cosa se io non mi scusa non pongo nessuna attenzione su quelle parole vuol dire ok ho capito male quindi il coglione so io se era come avevo pensato io te meritavi te beccavi e non ti chiedevo scusa è implicito anche se non lo dici per forza ok si si ci sta ci sta ci sta hai fatto una riflessione giustissima anche perché uno poi vedi tende a empatizzare quando lo senti un po' come tutto un bumerito tutto un cucciolito dice vabbè c'è semplicemente c'è un coglione e invece no c'è un po' di malafete anche in questo sì perché uno dovrebbe comunque accorgersi e specificarlo specie se sei un uomo adulto che si prende la responsabilità delle parole che dice almeno dire comunque ti ho detto delle cose grevi che non avrei comunque mai dovuto dire invece così anche se non lo pensa però a livello di comunicazione passa il messaggio che quelle parole se le sarebbe meritate qualora lui avesse confermato la presunta malefatta bravissimo è semplice oppure che proprio non si riesce a rendere conto che una mezza sufficienza per capire che quelle frasi erano fuori luogo nel senso se io che cazzo ne so uno mi ruba il cellulare dalla tasca lo raggiungo e lo riduco uno straccio di sangue lo mando all'ospedale in prognosi riservata ovviamente ho fatto una cazzata e se quando qualcuno viene a dire cose si dico eh mamma mi ha rubato il cellulare vuol dire che proprio nel senso non c'è neanche mala fede in quello che ho fatto sono proprio un pazzo che non sta capendo che è una reazione esagerata capito oppure se no gli chiedo scusa guarda che il cellulare non ti voleva rubare lui è stato un altro che ha messo la mano dietro gli vado a chiedere scusa ha fatto ah sì scusami perché non eri tu però quell'altro avrei dovuto farlo a lui c'hai capito sì 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 significa che c'hai le priorità sballate sì 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 è una scala di priorità strana e cioè alla fine la tizia non so se lo dice nel video dei fanpage le cose che ha preso le conseguenze che ha preso lei eh vediamo un pochino i messaggi successivi quindi queste sono le scuse e dopo le scuse sue e i messaggi di scuse ok eh però vedi qua hanno mistificato perché perché fai l'offesa non è presente nei messaggi di scuse questa è una mistificazione che lo fa passare peggio di quello che è peggio di quello che è successo non è successo questo fa pensare che ripeto durante le scuse gli abbia detto una frase del cazzo come ma perché fai l'offesa forse arrivano eh vediamo un po' gliel'ha detto prima perché fai l'offesa mentre la stava insultando no? eh no di verità cioè credo che sia tipo un anteprima di quello che arriva adesso perché questi vengono addirittura dopo quelli che abbiamo sentito noi ah e dopo ancora scusate 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 solo per questo sono arrabbiato mi sono dato una zappata sui coglioni da solo io ti ho raccontato l'intimità vera tu hai scritto forzando tutto quindi torna sulla tesi iniziale poi ha provato a chiamarla ma senza ottenere risposta e sarebbe tornato di nuovo all'attacco ti ho visto veramente con una persona che conoscevo za anni non da ieri dall'altro ieri ma da parte tua non ho visto comprensione sono stato sincero ma mi sono sentito usato tradito ti chiedo scusa non lo dico perché temo di essere denunciato fai quello che devi fare ma io sono stato sincero vabbè qua pure consapevolezza di quello che può accadere e che è accaduto vabbè forse perché secondo me lui in un momento dopo aver fatto sta cosa secondo me se sarà consultato qualcuno aveva fatto sentire i messaggi ho detto senti ma ho sgravato e ancora dopo ore forse pensi che sono matto forse ho le allucinazioni ma ho letto tutta l'interno ok aspetta mancava allora quindi quella era tipo una parte in più della parte di scusa ok quindi ok veniva prima hai ragione te ok e poi ok dopo continua non riesco a capire mi sei sempre sembrata una donna forte non riesco a capire perché adesso non mi parli più non mi rispondi più cazzo ok quindi dopo quelle scuse lui pretendeva comunque di rilacciare un rapporto e lei non gli rispondeva e poi la carta questa la carta vittima sono più lo difficile della mia vita te l'ho spiegato se ti fanno un documentario su Netflix proprio su di te è un periodo difficile della tua vita non c'entra niente però sta a fare l'hanno scritto è girato a parte che non c'è manco lui però l'hanno scritto è girato tempo fa ma lui adesso gli sta a morire il cane un parente non c'è non lo puoi sapere sì ma non c'entra niente e la gente non può non può giustificare i tuoi comportamenti antisociali per una tristezza di una cosa che ti è successa che nessuno può sapere se lui si è aperto con lei e gli ha detto questo potrebbe rappresentare un layer in più che lei magari avrebbe potuto avere la sensibilità di capire ma non è obbligata è vero ma infatti è già strano comunque che lei non gli abbia risposto inizialmente quando ancora era calmo cioè là i toni erano normali ma già lei comunque era in ghosting forse lei una volta fatta l'intervista che evidentemente per lei era soltanto unicamente lavoro cosa che per lui non era perché l'ha scritto da prima dell'intervista così lui voleva incontrarla e tutto quanto aveva un interesse anche magari personale per lei era soltanto lavoro e soprattutto succede che magari ti faccio un esempio come se noi dobbiamo fare un gate su una persona e questa persona nei tre giorni precedenti a questo gate ti comincia a scrivere messaggi a raffica ti chiede tutte cose quello che succede tu per rimanere esatto ma per questo tu per rimanere neutro almeno fino a quel giorno diceva adesso vado in ghosting fino a quando non ho finito di scrivere articoli e quando non lo faccio uscire perché altrimenti rischio di cadere delle trappole comunicative che poi so io la merda se non me faccio manipolare perché se io ti chiamo e ti comincia di tutte le cose sto male è morto questo è morto quest'arte a un certo punto te senti pure in colpa a non dargli retta sì sì però appunto poi le ha detto che in realtà non ha alcun problema con l'articolo quindi non è che vuole intaccare la sua professione vuole solo parlarle proprio come persona quindi ci può pure stare e lei ha tutto il diritto di non rispondere soprattutto a culmine di tutta questa cosa se hai visto che una persona è così facile nel cambio d'umore è una persona che non vuoi avere nella tua vita in linea massima nel senso a meno che non ce l'hai già se il tuo ragazzo e il tuo marito diventa così magari lo tolleri perché gli vuoi bene ma una persona che ancora non ci ha approfondito la conoscenza ti cambia idea quattro volte in mezza giornata dici vabbè non te voglio però lo stava aggostata quando era ancora calmo capito? sì sì non l'hai lei ci avrebbe ricominciato a parlare una volta uscito l'articolo però nessuno lo saprà mai se lei non era in quel tipo dei ghosting certo certo guarda esattamente adesso vi faccio il play lover academy tipo il chat game quando scrivete una pischella e lei vi costa anche per un giorno per due giorni se il vostro obiettivo è provare ad avere ancora una possibilità e non volete mandare tutta all'aria evitate di mandare prima che lei risponda quel messaggio che diceva ecco non mi rispondi più perché poi se lei ti scrive dopo una settimana ti faccio l'esempio proprio limite certo che brutto che hai stato trovato tutti questi messaggi che tu che mi dicevi eh certo allora vattene a fanculo perché io sono stato in ospedale una settimana e non potevo proprio rispondere a te perché mi hanno fatto un'operazione agli occhi però mi sei mancato tanto t'ho pensato sempre invece ho visto questi messaggi e te sei giocato una i motivi possono essere molteplici non sei ancora una priorità nella sua vita però magari gli interessi e quindi mette altre cose davanti a te che ne so il lavoro aiuta la madre un trasloco se tu gli rompi il cazzo prima quello è sempre l'egocentrismo che ti rovina le cose perché uno non riesce a stare calmo è l'insistenza pure che rovina tutto spesso eh questo sto a dire sì sì per carità cioè che tu vedi l'assenza di una persona il fatto che non ti sta a rispondere come una cosa unicamente rivolta a te un affronto a te e quindi stai là e ci pensi e ribolli e ribolli e ribolli e puoi fare l'errore che sta a dire proprio di dire comunque non mi sta a rispondere e uno c'ha la tendenza poi a fare la vittima perché sto è una cosa di pensavo che eri quella giusta è una cosa di ego poi ovviamente l'ospedale è un iperbole semplicemente per dire che quando siete in conoscenza con una persona che è stati ai primi scambi è normalissimo io me lo ricordo lo faccio pure io però tipo a 14 anni capito conosco persone che ancora lo fanno a 30 e quello è il problema io lo facevo quando ero piccolo quindi la vedo come una cosa passata una cosa che non ci pensavo non avevo avuto stop grade che se tu è un'altra persona non soltanto una ragazza anche un amico che conosci da poco se siete ai primi scambi della vostra interazione sociale ci può sta che non siete che non siete nelle priorità dell'altro allo stesso punto nel senso magari questa persona ha già preso un posto importante nella tua vita un interesse importante quello gli interessi gli stai simpatico ma ancora per adesso la chat dei amici del calcetto o andà a pagare la palestra è più importante che parlare con te magari nel tempo cambierà il problema è quando cioè sono i castelli che ci creiamo in testa perché tanto uno conosce una persona non ho detto che lo faccia l'uomo o la donna magari lo fanno anche entrambi però uno dei due tenderà a idealizzare l'altro o l'altra in questo caso che hai detto magari appunto lei è più una persona scialla che si vive le cose come sono ho conosciuto sto ragazzo mi sta simpatico quando mi va di sentirlo lo sento e quando no vivo la mia vita ma quanto è comune la cosa che te magari pipi schelletto te innamori te una e perdi la testa magari ti distrai pensi solo a lei non riesci ad essere cioè sei un po' non è che diventi completamente un cojone ma sei più distratto nella tua vita perché dai un valore a questa cosa a questa relazione la carichi di aspettative e poi magari se succedono queste cose comunissime che magari uno è un po' più assente è meno presente tu ti fai del male e riboli riboli crei quasi una una tesi per la quale tu devi stare male e quella persona è cattiva crei la tesi gliela presenti e succede quello che hai detto te la persona si allontana e certo perché ovviamente è respingente capire quanta persona investe più di te in un momento in cui tu hai deciso di non investire ovviamente porrà succede anche al contrario per carità nella cosa degli uomini no no ovvio c'è da tutte e due parti ma porrà il rapporto già su delle basi sbagliate sulle quali svilupparsi e complicate perché quando c'è tanta differenza di investimento emotivo non si è non c'è non c'è equilibrio perché una persona si sente obbligata e l'altra è facilmente manipolabile perché quando hai tanto interesse l'altra persona ti fa quello che vuoi quindi è male per tutte e due ma poi vabbè è un'altra cosa che io mi fa proprio una cosa che odio quando lo vedo fa le persone che conosco e gente che conosce una pischella in discoteca ieri magari c'è un interesse c'è un flirt e poi se incazza se l'avete nelle storie di instagram che non so il giorno dopo che sta uscì con un altro e la vedi questa già esce con un altro si magari quello lo conosce da sei mesi e te l'hai conosciuto ieri è ovvio che magari se è arrivato prima te c'hai una chance in più ma se un altro ha fatto tipo sei mesi di lavoro in più di te sul provare a fare interesse è ovvio che sta in vantaggio questo è perché crei un attaccamento già fin dall'inizio cioè magari un segnale ma da quel minimo segnale che può essere un interesse ci costruisci proprio il futuro il tuo destino i bambini insieme sì sì e quindi rosichi e ti fai del male andiamo alla fine di questo articolo poi ci salutiamo sono cose gravi ma totalmente infondate e il commento rilasciato da Rocco Siffredi dopo aver appreso della denuncia nei suoi confronti per molesti e moleste sessuali credo che ancora non fossero quando le ha fatto questa dichiarazione credo che ancora non fossero riccati gli audio perché se no totalmente infondate non lo diresti ho detto cose gravi però mi sono spiegato male intendevo altro oppure sì l'ho sbagliato le immagini delle telecamere dell'hotel ho dieci testimonio i testi delle interviste come erano state scritti mi presentava come un depresso cronico o mi faceva dire cose contro Borghi che mi inter... scusa ma te l'hai detto te che stai male scusa no ma poi anche nella sua dichiarazione l'attenzione è totalmente ancora sull'intervista nonostante lui nei messaggi che ancora non erano noti al pubblico gli ha detto che non ha sbagliato niente mi sono immaginato tutto l'intervista era giusta è tutto giusto quello che hai detto questo è dopo messaggio di scuse l'intervista è tornata a essere fuorviante che lo presenta come un depresso cronico ma se lui stesso magari ha detto nell'intervista mi sono aperto su cose intime è normale se stai passando un periodo di depressione invece farmi passare come un depresso cronico e anche usare la parola depresso come debole usare la parola depresso come insulto tipo ma te pare che io sono magari sì non c'è nulla di male non c'è nulla di male sì poi ho detto potrà sicure che la consecuzione temporum qua è difficile sbagliare potrà sicurare lui quel messaggio mi sono immaginato tutto l'ha mandato a lei dopo aver fatto queste dichiarazioni ma queste però non c'è una timeline precisa che noi possiamo intuido sembra dopo sembra dopo questa è la prima probabilmente lo è però come dice Dave non è sicuro perché se noi vogliamo commentare notizie croniche vogliamo fare il minimo pseudo informazione dobbiamo pure tener conto che magari noi ci stiamo a basare su una fonte che ha riportato i vocali e su una ricostruzione di fanpage che non è la testata più infallibile in ogni caso se una sta prima o sta dopo sono affermazioni contraddittorie ripetiamolo in una si scusa con la giornalista dicendo hai ragione su tutto il pezzo l'intervista che hai fatto non ha nulla che non va bene e va bene così qua mi presenta come un depresso cronico mi faceva dire cose scegli è la giusta è la giusta considerazione cioè perlomeno una è invalida l'altra a seconda indipendentemente da quando state dette che non ho mai pronunciato è stata un'intervista irrituale per tutto il tempo ha fatto allusione al sesso mi diceva che era molto forte a letto mi ha invitato a cena ha invitato un'amica per festeggiare il compleanno Rocco tu si che sei un vero uomo mi diceva cioè Rocco ci stai dicendo che t'ha affatto crede aspetta queste sono dichiarazioni di lui eh sta di ma affatto crede allora boh secondo me il fatto cioè allora breve in chat dicono grazie al cazzo che parlava di sesso stai intervistare Rocco Siffredi è ovvio farite però il silenzio degli innocenti si basava su quello vabbè questo è per pochi i dubbi innocenti il silenzio degli innocenti ma comunque ah ho capito sì 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 del fatto di aver scontato la cosa a me che però un po' mi fa riflette è che ok ovviamente qua siamo nel campo dell'illazione totale perché però lui deve ammettere che dalla sua ha purtroppo l'impedimento che i suoi vocali esistono e sono noti e non c'è traccia di queste cose invece di questi comportamenti che lei ha avuto che lui dice che è successo durante l'intervista quindi nessuno potrà mai dimostrarli quindi in questo è svantaggiato però c'è da dire che non matcha tantissimo nei tabuleri del loro chat questo ghosting totale di lei con un interesse così grande una volta che tu dici quanto sei bella ho fatto una cosa e lei manco te risponde poi il fatto che lui si e il fatto che lui usi queste cose stia raccontando questo come una sorta di scusante di giustificazione è gravissimo fa capire la sua mentalità cioè c'è stava a provare con me quindi è ovvio che gli ho detto le cose se è bella se è buona ma metti caso e lei c'è stava a provare in quel momento perché ha subito la fascinazione nel momento in cui ha chiuso la porta alle spalle di quella stanza detto l'età che ho fatto una cazzata non mi interessa per fortuna che non sono andato a Wharton ci volevo finire a letto dopodiché basta però ovviamente sarebbe una parziale giustifica ai complimenti iniziali di lui perché se lei ti ha fatto capire che c'è un'apertura ovviamente tu gli dici woman sei una sveglia top però non abbiamo detto che era sbagliato quello pure prima in chat mi sto ricordando voi non vi rendete conto della potenza sessuale che ha quest'uomo è lui che spesso lui è sessuale è lui che quando va a fare un'intervista spesso l'ho visto con una donna fa sempre la battotina quindi è lui che porta le cose sul sesso io mi ci giocherei una mano metterei questa mano in braceri ardenti che è lui che ha portato le cose sul sesso perché è proprio ciò che fa e ciò che è ciò che incarna quindi non è che in modo di andare a lei ma ha parlato del sesso perché evidentemente se lui ci avrà flertato ed è vero che è molto testosteronico ci sta che una donna magari ricambi il flert in quel momento come lo stavi a di te anche magari per imbarazzo sì e non lo so come argomentazione che poi si è comportata in un modo perché poi questa società è una società che vuole che la donna rispetti alcune alcune aspettative sociali che ha l'uomo soprattutto se è un uomo potente e se è un uomo potente e potente per via del discorso sessuale come Rocco Siffredi cioè se lui flerta con te e in quel momento non risponde ti senti pure una cogliona fai una figura di merda c'era anche l'amica sua che tra l'altro lui ha detto essere una fan sua pure questa è l'amica quindi stai là però te flerta non c'è niente di male tu rispondi così assolvi al tuo compito sociale però queste sono cose molto più complesse anche perché anche perché una donna sa che se una donna sa che se in quel momento rifiuti anche il flirt è pure peggio tu devi mettere innanzitutto il tuo ospite a suo agio lo devi assecondare cioè ci vedo questo perché dicevamo abbiamo fatto un processo alle intenzioni per quanto riguarda il ghosting preventivo che è una cosa che capiamo io capisco anche l'assecondare una persona che devo intervistare entrare nel mood della persona che devo intervistare per fare un'intervista ci vedo questo per tutti quelli che ci danno degli walk ancora abbiamo fatto una live intera spiego perché ho detto compito sociale a cui deve assolvere la donna perché in questo caso stiamo parlando di una donna ma per l'uomo è identico se non anche peggio perché questa è una roba che a me fa rabbrividire ad oggi un uomo è quasi costretto a ricambiare almeno pubblicamente il flirt ad una donna se non per quella mentalità sigma adesso che però sono novità però fino ai tempi nostri moderni sei sempre stato costretto socialmente a far vedere che pure se comunque te ta scoperesti perché se no sei gay e sono convenzioni sociali che mettono una pressione nel momento della comunicazione incredibile che non rende naturale la comunicazione la altera e quindi stiamo parlando di comunicazione falsata sempre sì vediamo un pochino le altre cose che ha detto aspettate che lo metto in un'amica per festeggiare il compleanno Rocco tu sì che sei un vero uomo mi diceva continua si freddi che conferma le parole utilizzate nei confronti della giornalista l'ho detto davvero e ho chiesto scusa aggiunge facendo riferimento a quanto detto riguardo alla sfera sessuale della giornalista mi chiedeva di continuo consulenze sul sesso così in un attimo di rabbia con lei e stress per la promozione di queste cose ovviamente in sede del processo andranno verificate perché tanto se ci sono state delle chiamate anche se al telefono comunque ci saranno dei tabulati in cui lei lo chiama più volte sulla spontaneità ci saranno dei messaggi se viene dimostrato questo non giustifica il fatto che è fatta la scopraccia dei cazzi è comunque una cafonata ed è grave il fatto che lui pensasse di poterci provare se questa gli parla in continuazione del sesso è giustificato ma lui intende mi chiedeva di continuo consulenze sul sesso cioè lui intende nel tempo della frequentazione o nell'intervista perché se è nell'intervista ripeto di che cazzo vuoi parlare con Rocco Siffredi non parli di sesso infatti lui dovrà dimostrare adesso in sede del processo quando gli chiedeva queste cose e in che contesto è giusto se no se stai a fare intervista sul sesso perché lui qua sta risponde dopo che ha la conoscenza che è stato denunciato per molestie sessuali qui mi sembra proprio una ma tu tu parla di sesso tu mi sembra una ricorso all'ipocrisia come diciamo pure con Davide che è una cosa proprio stupidissima di quando una persona si sta accusando di una cosa e fa no ma mica io tu io per me è assurdo che Rocco Siffredi poi magari ripeto usciranno le cose e verremo sbugiardati ma proprio così a intuito è proprio assurdo che Rocco Siffredi si stia lamentando che una giornalista gli abbia fatto domande sul sesso è follia guarda io ovviamente non sono un giurista quindi in questo ci servirebbe una piccola consulenza da un avvocato che ci dice come funziona magari ce lo può di Maria in chat perché non so come funzionano questi processi se vengono fuori i chat in cui lei parla di sesso a lui al di fuori della cosa potrebbero essere discriminanti per far cadere l'accusa di molestia sessuale e quindi secondo me in quel caso hanno proprio sbagliato via processuale perché se invece lei diceva guarda per stalking per ingiuria per trattamento poco delicato nei miei confronti per insulti in chat e non la buttava sulla molestia sessuale secondo me c'era molte più chance di ottenere qualcosa da tutto ciò perché effettivamente queste cose soprattutto se è giudice è uomo soprattutto perché ovviamente sono argomenti molto nuovi a livello sociale quale sia il confine fra una molestia e quello che è universalmente tollerato ricordiamoci abbiamo precedenti importanti recenti tipo 2020-2024 in cui i uomini vengono assolti per aver picchiato le mogli in virtù da una dimostrazione concreta di un adulterio da parte della moglie quindi qua siamo sempre nel campo dell'interpretazione personale perché anche il giudice è un essere umano ed è un insetto pure lui esatto e se tocchi delle corde particolari potresti avere una sentenza diversa da quella che magari che ti darebbe un altro giudice o quello stesso giudice in una situazione diversa metti che il giudice la moglie l'ha tradito il giorno prima ovviamente sarà più disposto ad andare in una cosa le donne sono tutte deve essere in merda poi umanità purtroppo molte dinamiche che accadono all'interno di casa mancano le prove quando ci sono invece conversazioni su whatsapp chiamate la ricostruzione risulta pure più semplice purtroppo ahimè le cose che hai elencato te finiscono male pure perché mancano prove si si ma infatti quando succedono queste cose è molto più semplice come hai detto te pure prima basterà fare una ricostruzione porteranno prove guarderanno i tabulati se vedi che ci stanno delle chiamate almeno una chiamata al giorno magari dopo la mezzanotte dal telefono del telefono di lui è ovvio che rappresenta in fase processuale qualcosa da tenere in considerazione è una prova in sé però comunque cambia il discorso totalmente da una narrativa in cui lei dice io me lo so più un culato e lui mi stalkerava ragazzi c'è stata vedere caso in caso quindi molto molto complessa sta cosa e ovviamente c'è anche la componente da considerare che molti hanno messo ovviamente quando è scoppiata questa cosa ed è stato reso noto il nome della giornalista tanti hanno detto ecco qua questa starà a cercare visibilità potrebbe essere perché non si fanno processi d'intenzione non si dà per scontato niente quindi potrebbe essere che lei ha fatto la visibilità però vi ricordo anche e l'abbiamo visto anche in chat qua che non mi sembra che sia una cosa che ti porti una visibilità positiva da donna mettere in discussione rocco si freddi in questo periodo storico perché si te porta popolarità ma te porta porco donna shitstorm enorme che veramente poi a fini che te trovano attaccata al lampadario quindi non lo so ma chi è lei? non da qua non c'è il nome se cerca se trova ma io sto contro il diffonderlo a meno che non non l'abbia fatto un ente competente sia un giornale una cosa non voglio alimentare il fatto di magari qualcuno sa vada a cercare tutto quello l'ho fatto anche in altri casi vi ricordate penso si trovi però se questi hanno ritenuto opportuno non non metterlo nell'articolo non lo voglio far certo io è buona? ecca è bina è buona o no? com'è? chi squali? state arrivà! è l'ho! crosshack! è l'ho! stai pure registrando tutti al bagno come ti fatti?